Buonasera a tutti. Io vi ringrazio di essere qui e ringrazio Gian Antonio Stella di essere con noi. Dirò solo due parole di saluto più che di presentazione. Buonasera a tutti. Io vi ringrazio di essere qui e ringrazio Gian Antonio Stella di essere con noi. Dirò solo due parole di saluto più che di presentazione. Non abbiamo molto bisogno che qualcuno ci spieghi chi è Gian Antonio Stella. È uno dei giornalisti e scrittori italiani più preparati, uso questa parola pesandone ogni sillaba, più attenti a quello che accade nel nostro paese, più documentati, più seri professionalmente. Cito qualcuna delle sue cose, qualcuno dei suoi libri. Dio po', gli uomini che fecero la padania, lo spreco, questo è uno dei suoi temi, come l'Italia riesce a sprecare quello che ha e che potrebbe spendere diversamente. L'orda, quando gli albanesi eravamo noi, bellissimo libro sulla immigrazione, l'emigrazione, eccetera, eccetera. E poi potrei citare Tribù o Avanti Popolo, però vorrei citare particolarmente l'ultimo libro, La Casta, che ha avuto un successo molto speciale, molto particolare, un numero di copie vendute che credo superi un milione, qualcosa del genere, un milione e duecentomila, segnando con ciò un fatto di costume, non solo un fatto editoriale, e cioè la risposta dei lettori, cioè dei cittadini, a un discorso serio, documentato, su come questo paese non funziona. Allora, la ragione principale per cui sono lieto di averlo qui. Gian Antonio Stere è stato già altre volte in normale, una volta qui dentro per un dibattito in questa sala, è stato tre volte, credo, almeno ai nostri corsi di orientamento. Abbiamo con lui un continuo rapporto, un continuo scambio di idee. La ragione principale per cui in questo momento non felice della vita del paese, sono particolarmente contento di averlo fra noi, è che in questo paese votato all'approssimazione possiamo parlare con qualcuno che non fa approssimazione. Grazie di essere con noi. Proviamo a stare in piedi, va? Beh, intanto devo dire grazie al direttore, perché sono parole davvero che mi lusingano. E grazie a tutti voi di essere venuti a sentire una chiacchierata su un tema che a me sta molto a cuore e che è un tema, io credo, che tocchi davvero tutti davanti al quale vediamo davvero, come dire, l'incapacità di una classe politica che francamente non è all'altezza. Ancora ieri in Parlamento c'è stato un sedatore che per dire che il governo era composto da tante persone, 102 ministri, viceministri e sottosegretari. Mai si era visto un governo così prolisso. Allora, scusate, la quinta elementare credo che non occorra averla, perché la democrazia è questa, anche i somari hanno diritto di entrare in Parlamento e questo è uno dei principi base della democrazia. Però insomma, un po' meno somari, probabilmente garantirebbero una gestione più corretta di questo Paese che ai noi avrebbe davvero bisogno di essere governato un po' meglio. Voi avete in mente quel tormentone, no? Che fa Fiorello partendo da Oiero Toscani, quella canaglia di Oiero Toscani, che dice vecchi, vecchi, siete vecchi, vecchi, siete vecchi. E Fiorello ne ha fatto un tormentone formidabile. Ora, il nonno di Luigi Pirandello avrebbe buon motivo davanti a questo tormentone di fare spallucce, perché lui prima di morire a soli 46 anni, come racconta Andrea Camilleri nella biografia del figlio cambiato, aveva già fatto con la moglie, l'unica moglie, mica come quei sultani che saranno 20, 30, più un po' di concubine, con l'unica moglie aveva già fatto 24 figli a 46 anni. E così potrebbero fare spallucce le fertili mamme fasciste che il ci convocò un giorno a Roma, credo per i Natali di Roma, per aditarle a modello di tutte le italiane. Erano in 93 e avevano portato tutti insieme 1.310 figli, cioè 14 a testa in media. ma noi no, non possiamo fare spallucce. Basti dire che dal 1961 ad oggi, se non contiamo gli immigrati, e poi vedrete quanto la cosa sia importante, siamo cresciuti di circa 6 milioni di persone, più il 13 per cento circa. Mentre il mondo raddoppiava da 3 a 6 milioni di persone, miliardi di persone. Eravamo allora noi italiani un cinquattottesimo della umanità, oggi siamo un cento e quattordicesimo. Cioè siamo diventati la metà del peso che avevamo demografico soltanto quando io ho fatto la prima elementare e non sono vecchissimo. Colpa del tasso di fertilità fermo da tempo a 1,3 figli per donna, contro i numeri da brivido che il World Factbook segnala, dati 2003, in Somalia dove ogni donna ha in media 7 figli, in Niger 6,9, nello Yemen 6,8, in Uganda e nel Congo 6,7, nel Mali del Chad in Angola, nel Burkina Faso e in Liberia. Quasi tutti i paesi del continente nero non a caso passato da 221 anime nel 1950 oltre 800 di oggi. Per ogni italiano c'erano, mezzo secolo fa, 4 africani. Adesso ce ne sono 14. Con un pil pro capite che in paesi come il Congo, 88 dollari l'anno, è fino a 230 volte inferiore al nostro. C'è chi come il presidente del gruppo bancario in Tera San Paolo, Enrico Salza, paventa che la popolazione dei paesi della sponda sud del Mediterraneo toccherà nel 2050 quota 421 milioni contro i 145 dei paesi della sponda nord. Voi immaginate cosa vuol dire, perché per millenni è stato il contrario, cioè i paesi della sponda nord e del Mediterraneo erano molto più popolosi di quelli della sponda sud. E c'è chi, come i demografi riuniti a Roma nel maggio 2005, ricorda che il problema non è solo nostro. Russia e Pakistan oggi hanno un numero di abitanti più o meno uguale, ma nel 2050 per ogni russo ci saranno tre pakistani. Per non dire dell'America, dove per arginare la pressione demografica immigratoria dall'America del sud, dall'America latina, la Camera dei rappresentanti ha approvato tra mille polemiche, come sapete, la costruzione di un muro di 1130 chilometri alla frontiera col Messico. Insomma, rischiamo di trovarsi in tempi non troppo remoti assediati dal terzo mondo. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Beh, c'è un pezzo dell'Occidente che questo problema, come ha dimostrato un libro che vi consiglio, che è I muri del pianto di Gigi Riva, il problema ce l'ha già oggi ed è Israele. Si spiega in quel libro come la costruzione del muro, dalla costruzione del muro a ritiro da Gaza, dall'irrigidimento su Gerusalemme e l'abbandono del sogno messianico della grande Israele, destinato a essere travolto dall'enorme crescita della popolazione araba, c'è non solo il pragmatismo dietro queste cose di Arik Sharon, ma anche gli studi di un demografo nato in Italia, Sergio della Pergola, il quale ha spiegato come nel 2000 c'erano 5 ebrei per ogni arabo in Israele, altri 3 in Cisjordania e Gaza, per un totale nell'area, diciamo, di 4 arabi. Ma già nel 2020, fra una dozzina d'anni, con il ritmo di oggi i rapporti saranno rovesciati, gli arabi saranno un milione in più degli ebrei, nel 2050 addirittura ci saranno meno di 9 milioni di ebrei e un totale di oltre 15 milioni di arabi nella zona, dal Mediterraneo al Giordano. Per chi le aveva vinte tutte, questa qui è una guerra già persa, così riassunta dallo sceicco Nimer Darvish, non so se si pronuncia così, in uno stile confronto col giovane diplomatico Offer Bavli. Io ho fatto 12 figli, ciascuno di loro ne ha fatti altri 12, due generazioni e siamo a 144. Il mio coetaneo ebreo, che abita nella casa accanto, ne ha fatti due, che ne hanno fatti a loro volta due ciascuno, totale 4, totale 144 noi, 4 loro. La guerra che abbiamo perso sul campo la vinceremo in camera da letto. Ora, questa cosa qua riguarda in questo momento Israele, ma in realtà riguarda tutti noi. Ed è un problema con il quale abbiamo a che fare, si tratta di capire se affrontarlo in modo rozzo e razzista o se affrontarlo in modo sobrio, però quello che è certo è che dobbiamo fare i conti con questo problema. Questa è la grande domanda. Come evitare che la legittimità della nostra difesa si veni di xenofobia? Questo se lo pongono, questo interrogativo, gli ebrei, questo interrogativo ce lo dobbiamo porre noi. Ed è una domanda che vale anche per noi, perché siamo vecchi. Su questo non c'è dubbio. Stando i dati dell'Assemblea Mondiale sul livecchiamento di Madrid, l'età media della popolazione mondiale è di 26 anni, con due estremi. Da una parte lo Yemen, 15 anni di età media, e dall'altra il Giappone e l'Italia, 41 anni. Ma sono dati di qualche anno fa. Perché oggi, se i numeri del mondo sono rimasti quelli, e anzi l'età media si sarebbe addirittura un pelino abbassata, spiega una tabella della Population Division delle Nazioni Unite, rielaborata dal nostro Giampiero Dallazuana, demografo e amico dell'Università di Padova, che tiene conto degli immigrati in Italia, che se nel 1950 la nostra età media era esattamente in linea con quella degli altri paesi industrializzati, 29 anni tutti i paesi industrializzati, 29 anni noi, quindi eravamo giusti, adesso è assolutamente cambiata la situazione. Abbiamo accelerato e mentre l'età media degli altri cresceva in dieci anni di circa dieci punti, adesso siamo circa a 39, la nostra età media si è alzata di circa 14, col risultato che nel 2010, secondo le proiezioni della Dallazuana, l'età media dei paesi industrializzati sarà un po' sotto i 40 anni e noi svetteremo a 42,8 solo grazie agli immigrati, perché se non ci fossero gli immigrati che hanno un'età media appena di sotto di 30 anni, noi già saremmo a 43 anni e mezzo di età media, che è quasi il doppio dell'età media del mondo, il triplo dell'età media dello Yemen. E la situazione è destinata a peggiorare, peggiorare intendiamoci si fa per dire, siamo tutti contenti di vivere di più, esultiamo all'idea di vivere di più, però bisogna poi affrontare anche questo problema. È un problema comune a tutti, non solo a noi, a tutto il mondo. L'americano Robert Fogel dell'Università di Chicago è andato a confrontare la salute, proprio le schede mediche, dei reduci, dei veterani dell'esercito andati in pensione e entrati a 65 anni nel XX secolo, cioè quelli che nel 1900 avevano più di 65 anni ed erano reduci dell'esercito americano e quindi avevano le cartelle, con quelle dei reduci di adesso, quelli che hanno 65 anni adesso. Cosa è venuto fuori? Ha potuto stabilire che quelli colpiti da una malattia cardiaca al compimento di 60 anni sono scesi dall'80 a meno del 50%. Un miglioramento nettissimo e non solo in questo campo. Scrive Fogel, il dato più sorprendente è che molte malattie croniche come quelle cardiache, quelle polmonarie e l'artrite compaiono in media da 10 a 25 anni più tardi rispetto al passato. Lo ha spiegato il New York Times. E di più, negli ultimi 100 anni, secondo questo scienziato americano, gli abitanti del mondo industrializzato avrebbero avuto, cito tra virgolette, una forma di evoluzione unica non solo per il genere umano ma per le 7000 generazioni di esseri umani precedenti. Mai successo. Un dato per capire. Un settantenne di oggi poteva aspettarsi alla nascita, negli anni 30, di vivere mediamente 55 anni scarsi. Adesso uno sa che può contare su un'altra quindicina d'anni, statisticamente. A prendere per anno base 61, la speranza di vita è aumentata in Italia di due anni e mezzo a decenni. Ogni dieci anni, due anni e mezzo in più. Nessuno, spiega lo studioso di demografia Massimo Livi Bacci, avrebbe potuto immaginare allora una cosa simile. Così come non sarei così ottimista oggi l'idea che vada sempre così, aggiunge Livi Bacci. Perché per esempio una profonda ristrutturazione durissima in Russia del sistema del welfare ha contribuito a farci che in Russia l'idea media si sia abbassata. L'aspettativa di vita si è abbassata, contrariamente a quello che è successo nei sistemi occidentali. Che significa anche che effettivamente ad andare a toccare oggi alcuni meccanismi, sappiamo che si possono avere dei risultati non così buoni per la nostra salute. I numeri, capiamoci, vanno presi con un minimo così di precauzione, insomma non vanno presi troppo sul serio. Mi ricordo che proprio qua, normale una volta ero venuto sui viti di Salvatore Settis, a spiegare come si possa con i numeri dire tutto il contrario di tutto. Cioè sulla base dei numeri posso dimostrare che siccome gli omicidi oggi sono cinque volte di meno, quattro volte di meno che negli anni Ottanta e sei volte di meno che negli anni Cinquanta, gli albanesi, i rumeni, i marocchini hanno portato sicurezza nel nostro paese. Siamo stati invasi da persone che ci hanno portato sicurezza. Quindi i numeri, ripeto, hanno presi con le molle, però è fuori discussione che dei numeri bisogna tener conto. Tanto più se questi numeri mettono spavento. Secondo i calcoli dell'Istat, che tra il 1961 e il 2005 ha registrato un'impennata dell'indice di vecchiaia, cioè il rapporto fra la popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 14, enorme, questo indice di vecchiaia è passato dal 38,9% al 137%, beh, secondo l'Istat siamo destinati a essere stravolti. Basti dire che fra otto anni, nel 1916, domani mattina storicamente, gli ultra sessantenni saranno 17 milioni e mezzo, non vi do i numeri, ce li ho però, insomma, non vi annoio, 17 milioni e mezzo, pari a tutti gli abitanti della Liguria, della Lombardia, del Veneto, del Friuli, Venezia, Giulia, del Trentino, Alto Adige, messi insieme. Fra 20 anni, che in termini storici è un battito di Ciglia, saremmo, questi sessantenni, perché ci sono detto anche io, oltre sessantenni, addirittura 19 milioni e 200 mila, pari appunto a praticamente tutta la popolazione del nord, compreso il Piemonte, un po' di meno, ecco, però insomma, quasi tutta la popolazione del nord. Gli ultra sessantenni saranno, fra otto anni, 9 milioni e mezzo, come tutti gli abitanti della Lombardia. Gli ultra ottantenni saranno 4 milioni e 80 mila, come tutti gli abitanti dell'Emilia-Romagna. Gli ultra novantenni, che già oggi sono quasi mezzo migliore, saranno 769 mila, come tutti gli abitanti dell'Umbria. Non so se vi immaginate tutta l'Umbria con l'età della Levi-Montalcini. E la Levi-Montalcini sta bene, è in palla. Ma voi vi immaginate il carico di problemi, di spese, che significherà una cosa come questa? Quanto i centenari, e una volta quando uno compiva a cento anni arrivava a settimana income, arrivavano i cinegiornali, gli facevano le fotografie, gli giornalista, gli facevano le interviste, gli chiedeva come è arrivato a cento anni. Beh, fra otto anni, i centenari di oggi saranno il doppio e arriveremo a 23 mila e 29 ultracentenari. Fra vent'anni saranno addirittura il quadruplo, 45 mila ultracentenari. Il che vuol dire che saranno esattamente quanti sono oggi gli abitanti di un capoluogo regionale come Campobasso. Tutti i cento anni. Ora, davanti a un quadro come questo, uno si porrebbe dei problemi. Silvio Berlusconi dice che è merito suo. Anzi, non so se ve lo ricordate, ha convocato la conferenza a Palazzo Chigi, qualche tempo fa, quando era ancora, stava ancora là, e adesso magari ci torna, quindi vivremo ancora di più, probabilmente, dicendo che ho l'orgoglio di dire che il mio governo, testuale, giuro, non è una cosa delle iene, è testuale, ho l'orgoglio di dire che il mio governo ha incrementato l'aspettativa di vita degli italiani, da 78-80 anni, e per le donne da 81-83. Ma siccome puntiamo tutti, io ne sono convinto, a 100 anni, chiedo di quanto sarà ridotta la mortalità per cancro con le novità che stiamo introducendo nel campo della ricerca e terapia oncologica. Lui si intende fare la battistrada. D'altra parte, il suo medico di fiducia, che lui ha ricambiato affidandogli una città non secondaria, quale Catania, cioè Umberto Scappagnini, ha detto se c'è un uomo che può essere predisposto per l'immortalità sotto il profilo immunologico, quello è Silvio Berlusconi. Al di là delle battute, ma questo è per tranquillizzare anche gli elettori del centro-destra che sanno di poter contare su Berlusconi anche per alcuni decenni, decenni, al di là delle battute, una classe dirigente seria deve o non deve porsi un problema enorme come questo? Questa è la grande domanda, no? pure zero. Zero. Anzi, non è lecito al governo trincerarsi dietro le difficoltà finanziarie del sistema previdenziale. Questa frase qua fu detta dal segretario del PC Luigi Longo nel dibattito parlamentare del marzo 1968 sull'abolizione, ahimè, fallita, della pensione che era stata introdotta tre anni prima e che aveva subito dimostrato di essere in grado di scardinare qualunque sistema pensionistico. In tre anni aveva dimostrato di essere destinata a combinare disastri e subito erano intervenuti cercando di farla, di abolirla dopo averla concessa. Il dibattito parlamentare fu una cosa che dovrebbe essere riletta tutti i giorni nelle scuole italiane perché c'era così poca consapevolezza dei problemi che stavano nascendo da una demografia profondamente diversa, da processi demografici profondamente diversi da quelli che abbiamo avuto nei secoli precedenti, che perfino un liberale come Emilio Pucci in quella delirante discussione si oppose all'abolizione della pensione di anzianità perché vedeva in questo strumento una cosa che permetteva alle industrie di rinnovare il personale mettendo il costo a carico dello Stato. E disse appunto Pucci che era assurdo abolire pensione di anzianità proprio mentre il progresso tecnologico e la sempre più accentuata automazione delle industrie richiedono mando d'opera giovane altamente qualificata. L'aspettativa di vita era allora di 68 anni per l'uomo e 73 per la donna circa. Oggi, come ricordava appunto Pelluscoli, è di 78 abbondanti per l'uomo e di 83 abbondanti per la donna e punta ad allungarsi ancora. Quarantenni di oggi, tanti auguri, sanno di poter vivere molto probabilmente almeno, insomma, intorno agli 83 anni e mezzo i maschi e gli 88 quasi 89 le femmine. 20 in più dell'età in cui si moriva allora, nel 68, quando fu fatto quel delirante dibattito parlamentare. Una gioia, appunto, per i protagonisti di questo a lungo, perché tutti noi siamo contenti di avere davanti a noi delle praterie più lunghe, più aperte da solcare, però è un problema economico col quale occorre fare i conti. Ci sono delle scelte che vanno fatte. Perché allora, forse non era chiaro quello che sarebbe successo, ma adesso sì, è chiaro. Basta rileggere i giornali qualche mese fa e invece si verrà che non è cambiato assolutamente nulla in rapporto a questi numeri. Quando tu fai questi numeri, quando citi questi numeri, la gente guarda un'altra parte e non risponde, se ne scivola via, non vanno ad affrontarli. Tu puoi scegliere di affrontarli in un modo o in un altro, ma quello che io trovo assurdo è che non c'è la volontà assoluta di fare i conti con i numeri. Basta rileggere, appunto, i giornali qualche mese fa, quando, impallinato sull'ipotesi di innalzare la soglia a 62 anni, il Ministro del Lavoro Cesare Damiano si precipitò a precisare che, per carità, cito testualmente, lui stava addirittura studiando una modifica della legge Maroni per consentire ancora ai lavoratori italiani che abbiano aggiunto i 35 anni di contributo ad andare in pensione con meno di 60 anni, ad esempio 58. Altri chiedevano di abbassarla ancora. Di fatto il collega Ferrero, convinto, come disse, che disturbare il manovratore è il miglior modo di far vivere il governo, l'abbiamo visto in ore recenti, quanto sia vero questa idea, disse, ma quanto vogliamo fargli restare in fabbrica? 35-36 anni di lavoro, a seconda di quanto si arriva all'età di pensione, mi sembrano sufficienti. Tesi rafforzata, come è noto, da molti altri teorici della spesa, tra i quali Guglielmo Epifani, che nella scia degli interventi scriteriati 40 anni fa è arrivato a dire che non si tratta con la calcolatrice. Ora dirà qualcuno, la solita sinistra, che non vuole fare i conti e quindi non vuole la calcolatrice e poi qualcuno ci penserà. Non è così. Non è solo la solita sinistra. Tanto è vero che dall'altra parte, in quell'occasione, ricordo agli smemorati, si levò incredibile la voce di Giulio Tremonti, che pure aveva tenuto i cordoni della borsa fino a poco tempo prima e sapeva come stanno le cose, il quale Tremonti arrivò a dire vogliono mettere i pensionati nel tritacarne, chi può andare in pensione ci vada subito. Una tesi un po' bizzarra, diciamo, estranea sicuramente non soltanto alla cultura di una moderna sinistra europea che, come voi sapete, ha fatto le riforme di pensioni molto più profonde di quelle fatte in Italia, in Spagna o in Germania quando c'era Schleder o in Inghilterra con Tony Blair. Ma estranea completamente a una moderna destra europea. D'altra parte nel solco di quella visione populista sui temi veri, concreti, delle cose che aveva già rivelato Silvio Berlusconi spingendo nel 1995 a fare perfino un appello elettorale che rassicurasse gli anziani che erano stati spaventati dalla riforma pensionistica ipotizzata dal governo Berlusconi e la riforma Dini del 1994. Ma rileggiamo cosa scrisse Berlusconi Care mamme, nonne e zie, vi ricordate quanta paura vi avevano messo dicendo che io volevo ridurre le pensioni? Invece ritirandola avete trovato gli stessi soldi con in più l'adeguamento al costo della vita. Ricordatevene al momento del voto, state con chi vi vuole bene. E aggiunse Una delle mie zie mi aveva promesso la torta di compleanno con le candeline se avessi mantenuto la promessa di non toccare i diritti acquisiti. Avrò la torta. Vabbè, lui avrà avuto la torta. Però noi siamo in ritardo drammatico sui conti. Siamo in ritardo drammatico su una riforma delle pensioni che non tiene, non può tenere. Che le case di riposo siano elettoralmente a preferire agli asili e alle scuole almeno agli occhi di chi vive la politica come una questione di bottega è fuori discussione. Anzi, diciamolo. Dopo John Howard Marshall II il novantenne multibilionario agganciato al Gigi Cabaret di Houston dalla strabiliante Anne Nicole Smith che si innamorò, immagino più che di lui del suo conto corrente perché lei aveva 26 anni e lui ne aveva 91 però dopo quel caso là diciamo la verità che nessun vecchio è stato tanto corteggiato quanto sono corteggiati i vecchi italiani al momento di votare è dato addirittura come voi sapete un partito di pensionati che è riuscito perfino a far vincere le elezioni alla sinistra nel 2006 perché senza i voti del signor Fatuzzo che aveva speso lo dico tra parentesi così a passare 16.000 euro per la campagna elettorale e ha avuto rimborsi elettorali per 3 milioni 16.000 euro spesi 3 milioni ricevuti di rimborso ecco quando è il momento del voto effettivamente c'è un'attenzione nei confronti dei pensionati molto così sostenuta l'altra parte è assolutamente normale perché i ragazzi dai 18 ai 24 anni che votano questo lo ricordo anche per i giovani che sono qua che sono quelli che poi andranno a soffrire di questo egoismo delle generazioni adulte i ragazzi che votano dai 18 ai 24 anni sono circa 4 milioni i loro genitori o nonni sopra sui 60 più o meno il triplo e come bacina elettorale beh voglio dire è chiaro che vanno a farci i conti la sinistra su questo terreno da resto semina da decenni non c'è una città rossa che non abbia vantato come fiore l'occhiello i centri sociali e il piano terra di palazioni popolari dove i condomini si ritrovano per chiacchierare e ballare liscio non c'è paese o quartiere rosso che non abbia la sua bocciofila non c'è festa dell'unità che non abbia tanghe e valse sono tutte cose che abbiamo sotto gli occhi da tanti anni però recentemente voi avete notato c'è stata una offensiva su questo piano con visite alle case di riposo eccetera eccetera da parte della destra un'offensiva fortissima e questo proprio perché c'è questo elettorato anziano che deve essere coltivato elettorato anziano e come dire gruppo sindacale anziano i sindacati oggi sono forti grazie ai pensionati iscritti che sono il 54% degli iscritti al sindacato cioè fra tutti gli iscritti al sindacato i pensionati sono più della metà sono dati che insomma io credo dovrebbero far riflettere perché è questo uno dei punti nodali della nostra della nostra storia la sinistra ha perfino perso le elezioni su questi temi perché fu secondo gli studi dei fondeggisti migliori dei politologi eccetera fu sulle pensioni che vennero perse le elezioni regionali del 2000 che poi fecero cadere D'Alema che aveva detto appunto che bisognava mettere le mani alle pensioni e che se Coferati si opponeva lo spiegheremo anche a dottor Coferati non so se vi ricordate quella battuta il fatto è che in un paese come questo è molto complicato parlare di pensioni ed è molto complicato spostare degli investimenti dalle fasce più anziane alle fasce più giovani intendiamoci qui non si tratta di andare a togliere ai vecchi per dare i giovani ma si tratta di smettere di togliere i giovani per dare i vecchi perché questo sta succedendo da anni e il punto d'arrivo guardate che è tremendo perché l'economista americano Lester Thurow sostiene che i conflitti di classe del futuro potrebbero opporre non più i ricchi e poveri ma i giovani e i vecchi e cita ad esempio Calcasca un paese del Michigan dove sono arrivati a votare una delibera Calcasca ha una popolazione soprattutto di anziani e voi sapete che il Michigan è uno degli stati industriali degli Stati Uniti più in crisi negli ultimi anni beh la popolazione più anziana di Calcasca facendo valere la propria la propria forza elettorale è arrivata a votare una delibera che tagliava i fondi alle scuole per darle invece alla popolazione più anziana e si chiedeva giustamente questo economista americano che futuro ha un paese dove i nonni rubano i soldi ai nipotini questa è una domanda che ci dobbiamo fare anche noi che non è una domanda di destra è una domanda che ci dobbiamo porre perché la tabella dei conti c'è ed è lì sotto gli occhi di tutti commissione Brambilla che dice che chi oggi va in pensione a 58 anni con 35 di contributi può aspettarsi di vivere mediamente oggi è la statistica 25 anni abbondanti che vengono coperti soltanto in parte dai versamenti fatti nei decenni di lavoro ma davvero molto in parte basta dire che dopo aver incassato attraverso la pensione quanto aveva versato e accantonato per la pensione nei suoi decenni di lavoro l'ex impiegato pubblico verrà mantenuto dalla collettività per altri 10 anni dopo che avrà esaurito i soldi suoi l'ex dipendente privato per altri 8 l'ex artigiano e il commerciante che si auto paga la pensione soltanto per 5 anni e mezzo commissione Brambilla preceduta da un leghista non credo che sia una commissione trinariciuta comunista il commerciante viene mantenuto dalla collettività per altri 20 anni dopo aver esaurito i propri soldi e si tratta di calcoli riferiti al 2001 e quindi addirittura oggi sono peggiori di come ve li ho adesso ricordati ma la città che per affrontare un futuro a rischio come il nostro ci vorrebbe un certo dirigente giovane consapevole deciso a prendere il toro per le corna e a sfidare l'impopolarità scommettendo sul domani se non proprio sul dopodomani ma è lì che il drago si morde la coda perché nessuna classe dirigente è vecchia quanto la nostra vecchio è il mondo degli ordini professionali che si chiude a riccio per difendere le rendite di posizione ogni volta che si profila una riforma l'abbiamo visto anche recentemente vecchio è il mondo della sanità dove l'introduzione del tutto teorica dei contratti a termine e l'associazione degli incarichi in realtà si è tradotta in una distribuzione a pioggia di prebende che ha portato a degli eccessi mostruosi come quello di vivo Valencia in realtà vale sia il nord che il sud questo discorso vivo è la mostruosità perché lì all'ASL hanno spartito tra i medici 40 primariati 85 primariati junior e addirittura 153 riconoscimenti di alta specializzazione come se ci lavorassero 153 Umberto Veronesi a Vibo Valencia tra questi 153 c'è perfino un chirurgo che ha avuto il riconoscimento di alta specializzazione con una mano e con l'altra ha presentato un certificato medico che diceva che non poteva andare in sala operatoria perché è alcolista come faccia un medico alcolista ad avere l'alta specializzazione per usare i ferri in sala operatoria è una cosa abbastanza bizzarra un'altra alta specializzazione in ostetricia non può assistere ai parti perché gli fa senso il sangue vecchio il mondo e l'università anche a Pisa un ricercatore Paolo Rossi voi forse lo sapete per chi non lo sa lo ricordo ha studiato le carriere di tutti i docenti pisani nel 1965 in qua bene dei 744 ordinari quelli entrati di ruolo nel 1966 avevano mediamente meno di 34 anni quelli entrati nel 2003 ne avevano oltre 54 e non troppo diversi sono i dati per gli associati e i ricercatori in pratica gli ordinari si sono insediati con un'età media più alta di 5 mesi per ogni anno che passava avanti così fra un paio di decenni andranno in cattedra i nonni dopodiché si chiede a Rossi come faranno ad accumulare i 20 anni di ruolo per diventare professori emeriti se non saranno avviati alla pensione subito dopo la coniata promozione ora non è solo un problema dell'università che per esempio nella scuola nella scuola i docenti nelle elementari medie superiori che hanno meno di 30 anni sono uno su mille quelli che ne hanno meno di 35 sono l'1,4% ma dove va un paese con questi numeri dove va un paese con questi numeri prendiamo la prova di forza che è stata scatenata un paio di anni fa non molto tempo fa al CNR su 107 direttori dei vari dipartimenti delle varie strutture del CNR 34 avevano più di 65 anni uno ne aveva 79 l'età più frequente era di 68 anni e solo 14 su 107 ne aveva meno di 55 non bastasse una trentina erano contemporaneamente questo è un miracolo dell'ubiquità all'italiana erano contemporaneamente docenti a tempo pieno in qualche altro ateneo e direttori a tempo pieno nel CNR due trempi pieni contemporaneamente è una cosa che forse qualche grande fisico ce la può spiegare ma io fatico fatico a comprendere non bastasse ancora 59 di questi cioè più della metà occupavano la loro posizione a più di 10 anni e di questi 29 erano imburlonati da oltre 17 e tra cui e tra questi addirittura 16 erano lì inchiavardati alla poltrona da oltre 20 anni con il risultato di portare forse una grande esperienza per carità non dico di no però certo non quella freschezza che hanno organismi simili all'estero eppure il tentativo di dare un po' di aria fresca in quelle stanze aria che lì è un po' stantia insomma fu accolto come un proditorio e vile attacco all'autonomia non solo all'autonomia di chi stava là ma all'onore stesso di chi lì stava e per carità può anche darsi che ci fosse dietro questo tentativo di cambiare i direttori qualche piccola porcheria politica perché parliamoci chiaro ne abbiamo viste talmente tanti in questi anni che anzi diamo per scontato che qualcuno voleva fare il furbino anche su queste cose però detto questo ma vi pare possibile che fra i motivi del ricorso al TAR di alcune decine di direttori del CNR ci fosse quello che era troppo bassa l'età massima di 67 anni ma era troppo bassa l'età massima di 67 anni io credo che siano delle cose che all'estero fanno sorridere penso due numeri del resto dicono tutto all'università italiana stando alla banca dati del ministero su 18.651 docenti di ruolo nei nostri atenei adesso forse sono cambiati sono dati poco tempo fa però non è importante il numero esatto su 18.000 docenti ordinari di ruolo nei nostri atenei quelli con meno di 35 anni che è l'età di Paolo De Coppi per capirsi il ricercatore veneto costretto a emigrare e poi finito su tutte le prime pagine del mondo per la sua scoperta di cellule staminali nel liquido amniotico sono 9 9 su 18.000 lo 0,05% al contrario con quelli con più di 65 anni sono 5.647 il 30% eppure lo sanno quelli che governano nel mondo universitario cose di segno nella storia soprattutto in alcune materie soprattutto in quelle scientifiche sanno che Enrico Fermi prese il Nobel a 37 anni che Renzo Piano progettò il Boburga a 34 Federico Faggini inventò il Microchip a 30 Bill Gates fondò la Microsoft a 30 Larry Page e Sergey Brin sbaragliarono i colossi di internet con Google quando ne avevano solo 25 a testa insomma sanno che l'esperienza è fondamentale la saggezza è un dono dell'età però vai a perdere in freschezza vai a perdere in inventiva vai a perdere in tante altre cose insomma un equilibrio un minimo di equilibrio in queste cose qua è assolutamente indispensabile perché i numeri del ministero dati ufficiali aggiornati il primo gennaio 2007 forniti al Corriere sulla base dei codici fiscali sono impietosi e dicono che negli ultimi 22 anni i docenti di ruolo negli atenei sono più che raddoppiati da 8.454 nel 1985 a 18.651 che abbiamo appena detto solo che la moltiplicazione delle cattedre non ha visto entrare in prima fila i giovani le torte statistiche che messe insieme studiate da studiosi come Stefano Zaperi e Francesco Siros Labini dicono che contro il nostro umiliante 0,05 di unito e che al contrario gli anziani oltre i 65 anni scendono al 5,4% in America all'1,5% in Francia all'1% in Inghilterra onestamente è possibile che la fascia più numerosa degli ordinari italiani cioè 1048 persone abbia 60 anni e cioè due di più dell'età media dei rottami umani ancora iscritti sia il partito comunista russo di Zhuganov pare impossibile merzo più di quelli che hanno meno di 40 anni quanto i 21.000 e passa ricercatori non è che le cose vadano un po' meglio e meno male che sui conti non gravano più i politici perché in Parlamento tra ricercatori associati e ordinari e c'è solo Prodi che si dichiara in pensione altri se la cavano con formule più o meno ambigue ce ne sono 93 un decimo di deputati e senatori ed è solo da poco che non avanza di andare fuori ruolo continuando di incassare lo stipendio e risultare a carico del sistema universitario senza più l'obbligo di fare una sola ora di lezione o di ricerca una regalia feudale via via modificata nella soglia di accesso finché la Moratti finalmente l'ha abolita per il futuro però perché per adesso ce l'abbiamo ancora riceveranno ancora lo stipendio 150.000 euro lordi gli ordinari 110.000 gli associati sono dati forniti al ministero la bellezza di 1.012 fuori ruolo nel 2020 in questo contesto in questo contesto aggravato poi da una serie di scandali di concorsi pilotati e baroni che lasciano in realtà la cattedra dei figli e i nipoti come fosse un comò pure quel caso estremo di Bari dove nello stesso corridoio tutti quanti lo stesso cognomi il punto è se voi foste un giovane cosa fareste? ve ne andreste ricorderete nel 2001 il governo amato fece la legge per il rientro i cervelli lei è definita in modo erastroso diciamoci al punto che a fronte è successo che perfino che la stessa leggina sia stata usata per fare rientrare dalla Mongolia un giovane sessene che non era mai andato via a Trieste miracolo dei concorsi universitari italiani il signor dottor professor Aldo Colleoni che disse che portava una carta all'università di Macerata in cui risultava ordinari professor in un istituto di di Ulambator allora qualcuno disse ordinari uguale ordinario elementare vuoto ordinario questo ha diritto ora qualunque appassionale inter una partita cruzio una partita Ibrahimovic una partita crespo piuttosto che fare il centravanti titolare della sua colbiatese no nell'università no che tu sia il più grande assistente del miglior professor del mondo nella più grande università del mondo vale meno che essere ordinario alla libera università di Forlimpopoli e questo è successo anche con Colleoni che è stato in pompa magna insegnito di questo premio di una cattedra a macerata in quanto ordinary professor a Ulambatori un istituto che non c'era manco su internet il ministro Mussi ha dovuto fare andare uno apposta in Mongolia andare a vedere cos'era sta roba che risultava dalle carte e sulla faccenda come qualcuno di voi sa sta indagando la magistratura certo è che tutte queste cose ci ponono una domanda cioè se noi fossimo in una bacinella chiusa potessimo vivere dentro i nostri confidi giocandocela fra di noi un giorno governa Mastella un giorno governa Rotondi un giorno governa Fassino un giorno l'altro governa Fines potremmo anche in qualche modo campare c'è qualcuno che ha teorizzato che l'importante è che i soldi girino è stato teorizzato anche questo perfino sulle mazzette l'importante è che i soldi girino ci hanno teorizzato ma il guaio è che non viviamo in una bacinella chiusa viviamo in un mondo aperto e qui cominciano i problemi perché dall'altra parte non sono mica come noi date a leggervi per esempio ma li avrete letti senz'altro però se non vi è capitato i libri gli ultimi libri di Federico Lampini che ci racconta cosa succede in Oriente scrive Federico nel secolo cinese che la business school cinese a soli dieci anni dalla sua fondazione è già da tre anni consecutivi nelle classifiche del Financial Times che i laureati sono quattro milioni l'anno vi risparmio i numeri italiani perché sono umilianti dei quali 350 mila ingegneri ogni anno che escono dalla Cina e non è che poi siano scuole che non dicono i prodotti cinesi si posta poco però il materiale no il materiale cinese dei laureati in alcuni casi è ottimo in matematica dice l'ultimo rapporto Pisa non Pisa 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 si chiama Pisa P-I-S-A non vi sto a fare tutta quanta la cosa però insomma è un rapporto dell'Ocse che sulle scuole del mondo l'ultimo rapporto Pisa dice che i migliori in assoluto sono cinesi o area cinese Hong Kong Cina Taiwan Singapore eccetera eccetera e cosa racconta Rampini racconta che 200 università americana 200 licei americani 200 non un liceo pilota 200 hanno visto le classifiche un anno poi l'ha visto l'anno dopo poi l'ha visto il terzo anno poi l'ha visto quattro anni ma caspita dice ma come mai i cinesi sono sempre davanti e cosa hanno fatto visto che Singapore parlano inglese sono perfettamente bilingue hanno preso i manuali di Singapore e hanno detto d'ora in avanti nei nostri 200 licei insegniamo la matematica come ne insegnano i cinesi immaginatevi a farlo in Italia come noi che abbiamo avuto Anna Sagola noi che abbiamo ma voglio dire impensabile ed è lì che ci fottono perché sono più giovani sono più svegli sono più aperti sono più coraggiosi sono meno anchilosati e lo stesso vale per la Cina scrive Rampini ancora che non solo per l'India scusate scrive ancora Rampini nella speranza indiana che è l'ultimo libro che ha fatto che non solo l'India sta facendo passi al gigante grazie a 200 milioni di giovani fra i 15 e i 24 anni d'età e cioè più dell'intera popolazione del Brasile solo i giovani fra i 15 e i 24 anni d'età il mio amico Mario Carraro che detiene un quinto degli assali industriali del mondo e ha imprese un po' in tutto il pianeta ha una fabbrica anche vicino a Bombay età media 22 anni 14 anni di scolarizzazione tutti filano come schegge e lui a un certo momento dice che continua a lavorare in Italia per una come dire scelta culturale se non fosse per una scelta culturale gli converrebbe spostarsi completamente e scrive ancora Rampini che la Infosys che è una delle grandi multinazionali dell'informatica ha 60.000 dipendenti per lo più colletti bianchi di alto livello cioè manager tecnici e ricercatori con l'età media di 27 anni e che questo multinazionale investe ogni anno nella formazione dei propri dipendenti il 6,5% del suo fatturato ma quando mai in Italia il mondo della produzione ha investito sui propri dipendenti il 6,5% l'anno ma comprano un caseggiato da sfruttare affittandolo comprano le autostrade comprano le rendite non vanno a investire sui giovani anche perché in Italia onestamente i giovani c'è anche sempre un po' di meno e questo dove è che vedi proprio la cecità perché c'è questa cecità nel non vedere questi discorsi e mi avvio a chiudere perché c'è questa cecità beh ci viene il dubbio che sia perché la classe dirigente che dovrebbe decidere è vecchia è perfino più vecchia del paese Sergio Rizzo con il quale ho fatto questo libro che prima ricordava anche il direttore è andato a prendersi tutte le nomine fatte dal governo Prodi lui è un pignolo fantastico beh voglio dire ce ne fosse una sotto i 55 anni c'erano tutti 60 anni 65 70 72 75 ma non era così una volta quando Pescatore diventa presidente della Cassa del Mezzogiorno e nei primi anni fu una cosa che funzionava davvero aveva 38 anni 35 anni quando Cucci è diventato presidente di Mediobank che ne aveva 38 quando i nostri alcuni dei grandi sono diventati sono andati al potere in Italia non era mica come oggi al momento di installarsi la guida del primo governo Cavour aveva 41 anni Minghetti 45 Giolitti 50 Fanfani 46 Moro 47 Goria 44 per non dire Benito Mussolini perché lo citiamo solo che però voglio dire ci andò che ne aveva 39 adesso ci ritroviamo il capo dello Stato Giorgio Napolitano va per gli 83 anni 5 in meno di Carlo Azzeglio Ciampi che quando chiuso ne aveva 86 vai con rinnovamento il Presidente del Senato Franco Marini ne ha 75 quello della Camera Fausto Bertinotti il ragazzino il ragazzo spazzola del del gruppo di testa ne ha 69 il Presidente della Corte Costituzionale Franco Bile ne ha 79 in media 76 anni passati per carità bravissime degnissime persone ma è lecito chiedersi come vai in Francia si sfidano due cinquantenni in Spagna si sfidano due quarantenni e da noi si sfidano due settantenni e uno forse ieri è uscito di scena e quell'altro probabilmente ce lo ritroveremo ancora anche a causa dell'immortalità per chissà quante altre votazioni future cioè è lecito domandarselo con tutto il rispetto voglio dire per le istituzioni ci mancherebbe altro allora il governo che ieri è stato battuto al al Senato aveva un'età media che toccava i 60 anni 60 anni posso dire che quelli più giovani dell'ormai anzianotto Tony Blair che si è ritirato per vecchiaia i più giovani Tony Blair erano 5 su 26 tutti gli altri erano più vecchi Tony Blair che dopo aver governato una dozzina d'anni si è ritirato Giovanna Melandri porta splendidamente 46 anni cioè all'età in cui Bill Clinton diventò presidente degli Stati Uniti a 4 anni di più di quelli che aveva Kennedy quando diventò presidente degli Stati Uniti quanto ai partiti allora la Mussolini che è la mascotte del gruppo ha 46 anni Fini 56 Casini 53 Bossi 67 Berlusconi 72 Di Pietro 58 e non più giovane Walter perché anche lui non è più giovane ne ha 53 media 55 anni che sono appena lì sulla soglia per andare in pensione secondo le regole attuali allora uno si domanda sarà per questo che non si pongono più di tanto il problema dei dei giovani sarà per questo beh voglio dire l'impressione è che davanti a questi problemi loro reagiscono come la meravigliosa Rossella O'Ara alla fine via col vento che dice ci penserò domani e poi in Italia dopo domani dopo domani l'altro dopo domani quell'altro ancora grazie 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 bravissimo 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 bravissime bravissimo 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 bene cominciamo con le domande grazie Cominciano i giovani e i vecchi. La media dei politici cinesi è altissima. Ciò non toglie che i giovani in Cina, come sento, naturalmente questi numeri andrebbero poi riportati anche alle particolari situazioni politiche di un posto o dell'altro. Però il dubbio che mi viene, ascoltandola, è qual è l'obiettivo di tutto questo. Per esempio, prendiamo un punto centrale. Una classe dirigente politica, io ho qualche esperienza di rapporto, vecchia, è vero. Vecchia, guardi, non per la carta di identità. Non è mica vero che un dirigente politico vecchio per carta di identità debba essere necessariamente vecchio nella sua azione politica. Non è mica stato così, ve dirò uno che non è della mia parte politica, Penside Gasperi, assai anziano, ha agito nel dopoguerra, riuscendo a governare la costruzione e ricostruzione del paese in modo estremamente giovanile. Non è affatto vero che quelli erano dei giovinotti. Era gente vecchia, ma che aveva fatto molte esperienze, come sappiamo, di che tipo in galera e altro. Cosa dovrebbero fare i politici vecchi? Farsi da parte e dire aspettiamo che nel vuoto vengano i giovani? Non succede mica così. C'è del conflitto. Si facciano avanti i giovani. Si facciano avanti i giovani. Dove sono le riunioni di giovani che si organizzano politicamente? Dove sono le riunioni di giovani che si battono per una crescita, per una loro crescita come dirigenti politici? Non si diventa mica dirigente politico o amministratore perché si è giovane, ma perché si ha una prospettiva. E soprattutto non individuale e a volte nemmeno di ceto o di gruppo o di categoria. Ma prospettive generali per il paese. Dove sono i giovani che si vanno a battere? Ci sono nuovi pari. C'è un nuovo partito, il Partito Democratico, sento, che dovrebbe essere quello della novità della politica. E leggo anche sui giornali, dice ma è bravo Veltroni, porta qualche giovane. No, io voglio sapere cosa dice quel giovane. Voglio sapere quali idee porta. Io qui ne vedo tanti di giovani. Io ricordo che gli anziani della politica oggi non si sono invecchiati per caso. Ma hanno dedicato grande parte, hanno dedicato grande parte della loro vita, il numero di ore, proprio percentualmente, all'attività amministrativa, all'attività sindacale, al confronto politico, alle battaglie politiche. Perché sono cresciuti. È vero, andrebbero sostituiti. Da chi e come? I giovani vogliono comandare? Si battano. Si organizzino. Buttino fuori a pedate i vecchi. Ma non possono aspettare che i vecchi, adesso io esco. No, ma notto, vieni tu a fare cosa? Cosa sai fare? Dove ti sei provato? Per cui io aspetto, oddio, a buttar fuori a calci me ci penseranno Storace e Berlusconi ed altri, non è questo il problema. Ma io aspetto con gioia ad essere buttato fuori a pedate da nuove idee giovani, ma che devono fare politica. Su questo, su questo chiudo, su altre cose, credo che avremo occasione, magari anche in un altro momento, di riparlarne. Per esempio, mi farebbe piacere sapere, è chiaro che gli operai, da tutto questo discorso, verrebbe, con i numeri si può fare di tutto, ma per esempio verrebbe fuori, che gli operai evidentemente non possono pretendere di andare in pensione a 58 anni, perché l'età media cresce e devono restare in fabbrica di più. I professori, invece, dovrebbero andarsene prima. Insomma, sono questioni assai complesse da governare, mica facili. Dove si sono fatte drastiche politiche, come lei ha giustamente ricordato, ho apprezzato molto che lei lo abbia ricordato, la vita media in Russia, quando certe certezze sociali sono scomparse, è calata di 11 anni, nel giro di pochissimo, diciamo, dal 90 ad oggi è calata di 11 anni. Non ne sono entusiasta, la preferirei un po' più vecchia quella società. Io credo che, come del resto ho detto, subito, come premessa, certo, quei numeri si possono dire, si può dire tutto e il contrario di tutto, e questa è una premessa di onestà intellettuale che va fatta. Però, però, devo dire che i giovani oggi, non è che non fanno politica perché stanno a guardare i grandi fratelli, sono rimbambiti, ascoltano la, che ne so, Howl Music invece che ascoltare Guccini, quindi crescono di meno, tutte queste cose. C'è anche un po' di questo, per carità, non di qui no. Però, una volta, chi aveva voglia di affacciarsi in politica aveva o la parrocchia per entrare poi nel solco di chi faceva politica attraverso la democrazia cristiana, o aveva le sezioni del partito comunista o del partito socialista, insomma, aveva degli spazi dove fare politica e dove dimostrare di essere, di valere. Oggi, sinceramente, o vanno a spaccare le vetrine, io mi auguro che non sia questo l'epilogo, però, certo, se io fossi un ragazzo sarei furibondo con quelli che mi fregano la pensione domani per tenersela loro, perché quello che è successo in quel paese del Michigan dove si tolgono i bambini per dare ai vecchi, sta succedendo in Italia da diversi anni senza una reazione giovanile, che io credo che un giorno o l'altro esploderà, perché non può andare avanti così, non possono accettare di farsi fottere così, no? Non è pensabile. E quindi, o fanno le rivolte di piazza, oppure dove vanno a fare politica, se la politica è un orto chiuso dove entri soltanto se ti aprono il cancelletto. Se la politica, se non puoi manco più metterti in lista, perché tanto, voglio dire, viene deciso dall'alto l'ordine delle persone che si mettono, che vengono elette, eccetera, eccetera. Cioè, dove vai? Quindi, io non credo che sia, non credo che questa sia una generazione di ebeti, credo che sia una generazione che ha la sfortuna di vivere in un momento in cui una generazione di prepotenti, di prepotenti, che è quella che a metà degli anni Sessanta si è presa il potere e a sinistra e a destra e se l'è tenuto fino adesso e non lo molla, non lo molla, una generazione di prepotenti, della quale faccio parte in qualche modo anch'io, anche se sono forse un pochino più giovani, una generazione di prepotenti ha costruito delle regole per cui i ragazzi non possono entrare. Non posso entrare in università, non posso entrare in ospedali, non posso entrare in politica, non posso entrare in nessuna parte e poi diciamo che sono rimambiti. Beh, insomma, qualche volta davanti, non mi riferisco ovviamente al discorso suo, ma davanti a questo tipo di discorso, fatto in modo molto più volgare da come l'ha fatto lei, che l'ha fatto in modo assolutamente che io condivido, voglio dire, ti viene da pensare che forse, voglio dire, era buona quella battuta, mi pare forse di Bertrand Russell, ma forse dico una stupidaggine, che diceva che è la cosa più insopportabile dei giovani e non farne più parte. Guardi, io ne parlo da giovane, si giri pure, mi sono indignata, no, no, non lei, il signore che... Come il Papa, faccio la messa così, prego. No, il signore che aveva fatto l'intervento. Oddio, lo vorrei adesso avere creato un precedente anche qui alla... No, io parlo da giovane e mi sono indignata al primo intervento, ma non in modo cattivo, ma in modo accorato, perché il problema non è solo della politica, ma in generale di tutti gli enti che non accolgono i giovani, perché c'è un problema di credibilità di base, secondo me. Io ho vent'anni e ho anche tanti progetti, ma sono andata all'associazione italiana chiedendo dei fondi, chiedendo di sostenerci come comune, come associazione di, non so, ente multietnico. E mi hanno detto, ma tu c'hai vent'anni, cosa vuoi fare? Stessa cosa fatta con fondi europei, abbiamo creato un forum europeo di 22 paesi con film festival, che va avanti da quattro anni. Ora, il problema non è solo, secondo me, a livello politico, e a livello di credibilità del giovane. Non ci prendono sul serio, che sia a un partito politico dove ti dicono tu non hai contatti, non puoi entrare, che sia all'università dove ti dicono tu sei piccina, cosa vuoi fare, segui le lezioni, stai zitta, che sia a livello di iniziative, perché se io non ho la possibilità di accedere neanche a un dibattito serio con una persona adulta, cioè adulta nel senso più vecchia di me, perché io mi considero per alcuni versi già adulta, e come faccio ad entrare nel sistema italiano? Come faccio a confrontarmi con lei se non ho neanche i mezzi per poter dire io sono al pari di lei? E' certo che mi arrabbio, se l'età media politica è 70 anni e non ci posso fare niente, cosa vado? Cosa vado a fare? Alcuni spaccano le vetrine, non condivido per nulla, però capisco la rabbia. Capisco totalmente la rabbia, e capisco anche che, ok, fantastico, il nuovo partito democratico, ma il nuovo partito democratico è da chi è stato idolato? Da vecchi. E' ovvio che non mi ci identifico, non ascolti le mie idee, non avrai il mio appoggio. Bisogna creare un dialogo, mi rendo conto, è difficile. Però, secondo me, cominciare a credere nei giovani è la prima fase per aprire un dialogo. E questo volevo dirle, ma io sono arrabbiata e continuo ad essere arrabbiata. Mi affido all'Europa, però, perché almeno quella... non avevo neanche il diritto di voto, e non avevo il diritto alla patente, per gli umani. Eh, ci dispiace, io ce l'ho detto. C'hanno la patente, ma non hanno il diritto di far politica, però. Hanno il diritto di guidare. Io il diritto di voto ce l'ho. Se il papà gli compra la macchina. E lo uso e ci tengo. Però non hanno il diritto di far politica. Io il diritto di voto ce l'ho e ci tengo, perché penso sia un onore poter votare in Italia e anche un onere. È un dovere votare, se poi si vuole discutere di politica. Però quello che vi dico in modo accorato, provate a credere ai giovani, provate a considerarci non poppanti, adolescenti, ma persone che magari pensano e hanno progetti da ideare anche qui nel loro paese, perché non vogliono scappare in un altro posto. Ecco, no, qui questo discorso lo stiamo facendo. Hai detto delle cose sensatissime. Questo discorso lo fai in un posto come era normale, dove davvero c'è il tentativo di fare anche scuola in maniera diversa, di educare anche, di insegnare ai ragazzi in maniera diversa. Ma lì io credo che per esempio, proprio per dare più spazio ai giovani, la cosa fondamentale sia non solo far saltare i lucchetti dopo, perché di lucchetti ne aveva fatti saltare tanti, corporazioni, ordini professionali, ma fatti saltare un sacco di lucchetti che bloccano la società, che sono assurdi, non hanno nessun senso, servono soltanto a garantire chi è dentro rispetto a quelli che sono fuori che possono dargli fastidio. Ma prima ancora di questo, secondo me, occorre riformare in profondità la scuola italiana. Cioè, non è ammissibile. Cioè, insomma, decidiamoci, aboliamo il valore legale del titolo di studio, che almeno, voglio dire, uno, quando assumi uno, sarai costretto ad ascoltare se ha una cultura o se è ignorante. perché non è possibile che in Italia si facciano soltanto i concorsi sulla base di titoli di studio in cui essere laureati nella migliore università italiana vale esattamente quanto essere laureati in quella. Adesso non c'è più, però. c'è stata pure all'università, come si chiama, Francesco? All'università di Villa San Giovanni, Francesco Ranieri, che uno ha messo su intestandola a se stesso. Questa è una cosa, secondo me, assolutamente fondamentale. e credo che senza l'abolizione del titolo di studio e quindi senza una revisione totale del sistema di concorsi questo periodo non si va in sua parte. Ti faccio un esempio e torniamo sulla politica, no? Perché noi diciamo ma perché i giovani non si fanno... Ma scusate, l'istituzione più importante che c'è, non solo in Italia, ma in tutti i paesi, è la Presidenza della Repubblica, no? Cosa c'è di più importante la Presidenza della Repubblica? C'è il simbolo dell'unità nazionale della Presidenza della Repubblica. Ma vi pare possibile che al culinare non si faccia un concorso dal 1963? Quanti qua dentro sono nati dopo il 1963? Era ancora vivo Staglio e Olio, erano ancora vivi. Era ancora vivo il Molotov. Era... Non è possibile che i giovani possano avere spazio e farsi strada in un paese in cui perfino il Quirinale non fa un concorso da 35 anni. Concorso serio. Anzi, il Quirinale nessun tipo. Poi concorsi seri anche adesso in Italia non si fa più. Scusate. L'invicchiamento è un problema mondiale. Comunque, penso che sia utile concentrarsi su quello che caratterizza la società italiana rispetto alle società di altri paesi. Vorrei citare alcuni numeri e oltre ai suoi un numero importante che secondo me va considerato è che in Francia nascono circa due figli per donna, in Italia 1,2 e 1,3. Quindi c'è una netta differenza in termini di natalità tra la società francese e anche inglese, scandinava, tedesca, è simile a quella italiana e quella italiana. Quindi questa è una parte del problema. L'altra parte del problema che secondo me esiste in Italia è che le posizioni di vertice sono prevalentemente occupate da persone anziane e non è tanto la società è vecchia nel suo complesso non ci si può lamentare che gli insegnanti di liceo abbiano un'età media elevata. Quello che deve preoccupare è che le posizioni di vertice siano detenute dalle persone di età più avanzata e tra i tanti casi non va dimenticato anche le imprese private. C'è il presidente delle generali è ultraottantenne Antoine Bernan e anche in quel settore c'è una sproporzione rispetto ad altri paesi della frazione di posizioni di potere tenute da persone anziane. Secondo me questo particolare problema deriva dalla assenza o comunque minore meritocrazia che esiste in Italia rispetto ad altri paesi e questo è connaturato alle maggiori ideologie politiche prevalenti in Italia non solo di cattolici e comunisti ma anche a destra. per portare qualche altro dato a supporto di questa tesi che le propongo rispetto ad altri paesi si può osservare come in Italia più che in altri paesi gli stipendi crescono per anzianità e non in base ad altri fattori gli immigrati che arrivano in Italia rispetto a quelli di altri paesi occupano posizioni sociali più basse in Italia c'è la mobilità sociale più bassa rispetto a paesi come la Francia la Germania l'Inghilterra gli Stati Uniti e nell'università l'Italia è uno dei paesi confrontato con quelli più paragonabili che ha il minor numero di stranieri nei docenti e tra i ricercatori confrontiamoci anche solo con la Spagna un paese molto simile fino a poco tempo fa più povero di noi adesso le ultime cifre del Fondo Monetario internazionali dicono che come ricchezza pro capita parità di potere di acquisto ci ha superato da due anni la Francia ha il 4% di personale universitario straniero l'Italia il 2% questo dà una misura è chiaro che se si entra per merito è facile che entrino anche degli stranieri e in genere gli stranieri come mostrano le ricerche per esempio di Perotti hanno una qualifica superiore portano vantaggio alle università che li assumono perché devono superare altre barriere quando invece si procede per diciamo per relazioni invece che per merito prevalgono le persone anziane e il caso di Antoine Bernat il presidente delle generali è emblematico e con questo concludo sono d'accordissimo sono assolutamente d'accordo ma è una il punto della meritocrazia è strettamente legato anche alla possibilità di accesso o c'è una filosofia diffusa nella società per cui il bravo viene premiato oppure è chiaro che passa soltanto e lì siamo veramente lontani e credo che tu abbia ragione a dire che è una cosa che riguarda tutte le culture politiche di questo paese non solo la sinistra e l'esempio più clamoroso che mi viene in mente è questo che qualche anno fa dentro una delle tante leggi Bassanini hanno messo anche il premio a un premio ai dipendenti pubblici che facevano meglio il loro lavoro i dati generali italiani non li conosco però conosco i dati dei dirigenti perché li ha raccontati a un convegno in cui c'ero anch'io il ministro Nicolaes e io ho fatto un salto sulla sedia e poi mi sono fatto dare dal suo gabinetto tutto quanto e me li ha dati e in effetti erano assolutamente pazzeschi e cioè adesso vado a memoria mi pare che su 3702 dirigenti altri dirigenti ministeriali sparsi in tutta Italia quelli che avevano uno stipendio maggiorato e avevano delle funzioni di carriera che mano a mano avanzavano perché erano stati valutati ottimi cioè avevano avuto il massimo della votazione erano 3702 tutti cioè possibile caspita siamo in mano a dei geni possibile non c'è un somaro in tutta la dirigenza pubblica un somaro uno solo uno che per sbaglio sia stato messo lì voglio dire da qualche politico è vero che non succede mai però insomma metti caso che qualcuno sia finito là perché raccomandato un somaro dammi un somaro uno solo niente zero tutti bravissimi è chiaro che in un contesto come questo come fa un giovane a rubare il posto a uno che è garantito in questo modo e questo vale dappertutto quando si faceva il discorso dell'età media alta degli insegnanti ma figurarsi se io mi auguro che tutti muoiano o vengano licenziati o ci sia la decapitazione di massa nelle piazze degli insegnanti anziani non è questo il punto è che un ragazzo bravissimo come fa a farsi strada nella scuola se si entra soltanto perché prima c'è quello che fa la telefonata te invece che quell'altro e fai un giorno in supplenza poi grazie al fatto che hai fatto un giorno in supplenza ne fai altri due poi grazie al fatto che ne hai fatto tre ne fai altri tre poi grazie al fatto che ne hai fatto sei eccetera eccetera e mano avanti mano a mano ammucchi queste supplenze finché entri come precario e poi vieni stabilizzato io ho degli amici bravissimi che non sono mai riusciti a insegnare perché non hanno accettato di inserirsi in questo percorso che è un percorso assolutamente umiliante però non è così che una scuola si difende ed è in questo senso che io dicevo che è molto grave che gli insegnanti siano tutti così anziani io sono un esempio di direttore a 42 anni e quindi forse contraddico un po' una parte di quello che lei ha detto e anche forse sono un incoraggiamento per i ragazzi la ragazza che ha appena parlato e quello che cerco di fare quando parlo con gli studenti perché sono diventata direttore da poco quindi ancora faccio lezione eccetera e dico ce la potete fare e secondo me è importante che i ragazzi giovani ai 20 anni uno possa pensare davvero di potercela fare cosa serve per farlo intanto serve molto coraggio perché spesso appunto bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione e poi serve di educare questi giovani ad essere degli spiriti liberi io personalmente ci credo molto credo che questa scuola la scuola di cui ho la fortuna di essere il direttore sono scuole dove dobbiamo educare alla libertà e anche all'autoeducazione per esempio lasciando in gestione noi lasciamo il collegio in gestione agli studenti lasciamo cose importanti in gestione ai giovani dando loro una responsabilità fin da piccoli se lasciamo questa responsabilità cresceranno con questo senso di autodeterminazione quindi volevo cercare di controbilanciare con un messaggio positivo poi in fin dei conti il sistema universitario ha generato anche dei casi come il mio un'altra cosa che volevo dire riguarda l'educazione alla politica recentemente ho parlato con un collega che ha qualche anno più di me non molti perché appunto dopo la mia elezione ho cominciato a stabilire un programma da finire delle azioni da fare e questo collega mi ha detto tu sei una grandissima ingenua forse fallirai perché tu pensi che un discorso bello e giusto possa portare tutti quanti dalla tua parte se credi a questo sei finita io volevo sapere lei cosa ne pensa di questo è vero che non serve fare un discorso bello e giusto oppure dobbiamo continuare a cercare di farli no io credo che io credo che penso che che lei sia in una situazione molto particolare e penso che sia paradossalmente più facile paradossalmente dico e questo va a merito della sua e della struttura in cui lei sta paradossalmente più facile entrare giovani a Harvard o alla Normale o a Sant'Anna che entrare giovani e fare la strada all'università di Palermo per esempio tant'è vero che un giorno era fantastico il Corriere pubblicò la storia di un ragazzo che il giorno in cui era stato accettato per andare a insegnare mi pare proprio a Harvard o a Berkeley se non ricordo quel giorno lì contemporaneamente ha preso due lettere una gli diceva che i suoi titoli erano stati conosciuti e buoni per insegnare non so se Harvard o a Berkeley e un'altra che diceva che gli dispiaceva ma i suoi titoli non erano assolutamente sufficienti per insegnare e per fare l'assistente a Palermo quindi dipende da dove si è in questo senso io esulto davanti a casi come il suo e davanti a casi alcuni luoghi di assoluta eccellenza in Italia però devo anche dire che questi punti di luce fanno sembrare ancora più buio quello che c'è intorno e in questo senso non sono molto ottimista per quanto riguarda invece il fatto che valga la pena di crederci nelle cose anche belle interessanti eccetera credere nelle cose che si fanno lì invece sono d'accordo totalmente con lei assolutamente e d'altra parte sarebbe bizzarro se io non lo fossi perché io vengo da una regione il Veneto il nord est dove per anni è stato teorizzato che non c'è niente di più inutile della cultura e cosa c'è di più inutile del libro cosa c'è il libro non è un mattone non è un tondino non è non ci fai il calcestruzzo non lo puoi vendere non lo puoi importare in Cina non lo puoi vendere ancora c'è di più inutile di un libro no e invece voglio dire ho avuto la fortuna di vedere come anche un libro può non dico seminare il panico però insomma può creare qualcosa di importante può sollevare anche dei movimenti di opinione che poi chissà che alla lunga pian pianino non riescano anche a modificare qualcosa in questa nostra società politica parlando dei problemi più gravi che affliggono il nostro paese ne volevo citare un altro che secondo me è più imminente di quello demografico e meno citato di questo è il fatto che con l'apertura dei mercati globali il sistema produttivo italiano sia esposto alla concorrenza dei paesi asiatici ora forse questa concorrenza non tocca probabilmente gli stipendi gli interessi della casta ma un operaio italiano si dovrà probabilmente adeguare salari cinesi nei prossimi anni e credo che questo sia un momento di grande cambiamento per il mondo e che l'Italia non si trovi in una situazione particolarmente privilegiata e il modo peggiore per affrontare questa situazione sia scatenare una guerra un odio fra generazioni diverse e quindi esprimo tutto il mio sostegno al primo intervento grazie grazie dunque se fosse così se fosse così saremmo freschi in effetti però i casi come quello della Finlandia ci dimostrano che non è così c'è modo di anzi di usare addirittura l'emergere della Cina dell'India del resto citavo prima Rampini Rampini batte e ribatte su questo da tanto tempo i cinesi vanno pazzi per i prodotti italiani non è che ci invadono soltanto ci invadono con magliette che costano un euro e noi riusciamo ad andare là a vendergli magliette che ne costano 50 lì è questione di sapere affrontare questa novità in maniera diversa certo se tu pensi di affrontare la Cina come hanno pensato i Veneti per alcuni anni e cioè i cinesi lavorano tanto lavoro anche al venerdì pomeriggio i cinesi lavorano anche il sabato mattina lavoro anche il sabato pomeriggio i cinesi lavorano anche domenica mattina lavoro anche domenica pomeriggio perdi sempre perché il cinese lavora anche a Natale e a Capodanno e quindi sei fottuto e lavora a prezzi molto più bassi pensare pensare di reggere la sfida con questo con questo modo qua che è come la pensavano una parte purtroppo larga dell'imprenditoria veneta fino a qualche tempo fa adesso le cose sono già cambiate e stanno già cambiando molto è suicida suicida se però ti sposti su altre cose vai a giocare sui prodotti più squisitamente tuoi se hai il coraggio di scommettere sui giovani facendoli studiare invece che mandarli in fabbrica a 14 anni ma farli studiare e poi te la giochi su altri piani quindi figurati se non sono d'accordo con il tuo discorso certo su quel piano là è inaccettabile che un operaio possa andare a prendere non so un euro l'ora come succede anzi meno in Cina però è lì il punto devi giocartela in maniera diversa e poi devi attraverso questo sì le prove di forze internazionali non tanto sui dazi ma su tutta un'altra serie di strutture nei quali puoi andare a incidere devi mano a mano fare di tutto perché il rompa nella società cinese il rompa nella società indiana il rispetto di alcuni diritti fondamentali perché una volta che sono passati anche quelli e poi cambia prendete la Romania i veneti per anni sono andati in Romania perché non c'era sindacato nessuno rompeva le palle non c'era diritto del lavoro non potevi farli lavorare io ricordo di essere entrato per sbaglio in una casa cadente proprio diroccata vicino a Timisoara e ci ho trovato dentro mille donne che sembravano di stare davanti veramente alla società industriale inglese dei tempi di David Copperfield perché lavoravano queste poverette in condizioni pazzesche pazzesche a fare le sorpresine degli ovetti kinder la mia nipotina mi vanto non ha mai avuto un ovetto kinder in tutta la sua vita che Dio maledica gli ovetti kinder perché sfruttavano queste poverette in un modo assolutamente allucinante bene a un certo momento la Romania è entrata in Europa e adesso sul gazzettino romeno perché si chiama così un giornale scritto in italiano che esce in Romania si chiama il gazzettino rumeno c'erano lettere degli imprenditori che dicevano ah qua non si può più stare che è sindacato non si può più sfruttare gli operai come prima non si può più vivere adesso non si può più far che fare quindese ora al giorno e andiamo in Moldavia e poi arriverà anche in Moldavia qualche finalmente qualche diritto e poi arriverà in Kazakistan e poi arriverà in Cina e quando finalmente e guardate che in una società in cui tutto corre come oggi non è mica detto che ci si metta 50 anni ad arrivare a quel punto può darsi che arrivi molto prima io dico che abbiamo ancora delle buonissime carte da giocare però quello che può l'iscussione è che non possiamo aspettare che la Cina invecchi come invecchierà molto più velocemente di noi grazie alla scelta del figlio unico noi dobbiamo muoverci prima perché se stiamo a aspettare che succeda questo rischiamo prima di fare una brutta fine io ero giovane 50 anni fa però mi sono occupato di politica solo una quarantina di anni fa per un po' di anni ho smesso quando mi sono accorto che era un mestiere e non lo volevo fare come mestiere non c'era spazio allora non c'è spazio adesso per chi non lo sceglie come attività primaria ho un amico che è assessore in un comune di vicino ha rifiutato l'assessorato ai lavori pubblici ed è stato emarginato dal suo partito perché ha rinunciato a un posto di potere sicuro in quanto non aveva il tempo di dedicarsi ha scelto un assessorato meno importante quello allo sport e quindi è stato emarginato le condizioni non sono molto cambiate lo sappiamo da 40 anni fa adesso quello che è cambiato in peggio è la società nel complesso 40 anni fa c'era una partecipazione c'era una una spinta che proveniva dalla società che adesso non c'è più quelli che fanno politica anche quelli per bene che ci sono io ho letto il suo libro anzi lo sto leggendo un po' per volta perché il fegato ha una capacità di sopportazione lo leggo a pezzettini voglio dire quelli che fanno politica oggi non hanno neanche quello che c'era una volta cioè il sostegno della società civile c'è uno scollamento che è cresciuto nel corso di questi anni e che rende sempre più difficile esercitare come dire l'attività nella politica anche quando la si sceglie come attività esclusiva e per quanto riguarda i giovani c'è un piccolo episodio che una piccola testimonianza che voglio portare io ho due figlie che fanno insegnanti una ha la fortuna di insegnare nel carcere dove ci sono degli studenti molto molto ordinati e che si applicano un'altra invece un'altra invece che non è ancora di ruolo e fa delle supplenze ha fatto una supplenza in una scuola si è trovata con una altra professoressa laureata qui alla normale a richiedere la bocciatura di una studentessa che aveva sette insufficienze è intervenuto il preside e ha detto no questa la dobbiamo promuovere perché è raccomandata dai frati Cappuccini allora dico è un episodio vero questo non me lo sono inventato allora è minimo però dico ci sono ancora molte speranze in un'Italia che ha quattro regioni in mano alla mafia se noi ci muoviamo non solo con i convegni ma magari non so con le uova possiamo fare un consorcio per acquistarne un po' e cominciare a usarle grazie no io credo che tanto più voglio dire con questo sistema elettorale e tanto più dopo quello che è successo anche ieri in senato e il futuro che ci che ci si prefigura davanti capisco che essere ottimisti sia complicato le dirò che non è una cosa che riguarda soltanto la sinistra ma riguarda anche la destra un sondaggio di Nando Pagnoncelli per Ballarò che purtroppo Ballarò non ha usato quindi non è stato diffuso ma io lo trovo interessantissimo dice che su cento elettori e guardate che quando fa i sondaggi Pagnoncelli li fa serie li fa serie va a ascoltare tanta gente scelta bene beh su cento elettori che si dichiarano di destra alla domanda secondo lei se vince la destra le prossime elezioni cambierà qualcosa punto di domanda il 40% risponde no quindi vuol dire che il morale basso c'era tutto il paese non c'era soltanto un pezzo di sinistra che esce massacrata da quello che è successo in questi mesi e soprattutto ieri al 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 senato con quelle scene davvero indecorose in un parlamento no con un senatore della repubblica che urla che casqualli da pezzo di merda eh cesso è vero che la politica è anche come dire eh sangue e passione però insomma c'è modo in modo ecco però voglio dire non è solo questo pezzo di sinistra qua che esce male hanno il morale basso da tutte le parti tutta l'Italia ha il morale basso quindi capisco la sua sofferenza una sofferenza condivisa però diciamoci la verità se in mezzo alle macerie nel 1945 i nostri genitori si fossero lasciati prendere lo sconforto ha voglia di costruire Milano ma voi ve la ricordate come avete visto delle foto com'era Milano nel 1945 cioè eppure i nostri genitori si sono tolti dalle spalle i calcinacci e hanno cominciato un po' alla volta a togliere e rimuovere le macerie qui c'è da ricostruire da ricostruire un paese c'è da ricostruire la scuola c'è da ricostruire l'università c'è da ricostruire un sacco di cose però insomma credo che sia assolutamente indispensabile almeno provarci se non altro per rispetto di se stessi e credo che lì una cosa che non è ancora venuta fuori ma che secondo me è assolutamente fondamentale che possano debbano avere un ruolo determinante le donne perché insomma nel 1982 eravamo tutti più o meno sul stesso piano c'è un'inchiesta formidabile che è stata diffusa in Italia da Maria Antonietta Macciocchi che diceva che nel 1982 cioè 25 anni fa le donne in Europa avevano più o meno il 7,7% di spazio nei parlamenti e nei governi 25 anni dopo è cambiato il mondo le donne hanno 7 ministri su 14 in Spagna 7 su 14 in 8 su 16 scusate in Germania 8 su 16 ne avevano nel governo di Tony Blair adesso ne hanno uno in meno nel governo di Gordon Brown però con ministeri seri e 7 su 14 in Francia 12 su 20 addirittura in Finlandia dove donna anche il capo dello Stato no? davanti a questi dati tu vedi che c'è una grande assente la grande assente è la donna italiana io non credo che come diceva prima il professore ex l'ex professore non credo che possano essere gli uomini a dire prego si accomodi signora credo che le donne se lo debbano pigliare il potere e se lo debbano pigliare facendo la voce grossa perché se aspettano che che c'è da loro il potere i Mastella i Rotondi i Folena eccetera eccetera ma dico li devono sposare no? ma a quel punto ma a quel punto al massimo avranno la spazzatura e la presidenza della regione di Campania ma il ministero di giustizia ce l'avrà comunque lui eh chi porta i pantaloni in famiglia buonasera ehm riagganciandomi a quando lei diceva poco poco anzi riguardo alla allo stato della classe politica italiana io credo che due i due ritratti più strazianti in qualche modo di di del nostro delle nostre temperie siano il suo ultimo libro Gomorra di Roberto Saviano e se sovrapponiamo questi due libri e focalizziamo la nostra attenzione sulla Campania su questo paesaggio fatto di roqui come un come certi quadri di Bruegel io credo che siano che questa immondizia che permea la campagna campana sia un po' una metafora della classe politica italiana una classe politica che poi è capace di autoassolversi no? facendosi portatrice di valori eh così puritani come quelli della famiglia no? tanto che abbiamo una destra che ama tantamente tanto la famiglia che i politici che ne fanno parte ne hanno più di una no? e questo lo sappiamo ecco lei non crede che questo porti a scavare qualcosa dentro i ragazzi riaggacciandoci al discorso di poco fa sull'invecchiare in realtà li invecchi dentro anzitempo eh volevo dire anche altro dovremmo forse porci anche la eh il problema della presenza del di una certa presenza invasiva del Vaticano in Italia a cui lo Stato italiano devolve miliardi di euro ogni anno eh piuttosto investendo sul sul padre eterno sull'altro mondo piuttosto che sulla ricerca scientifica e qui poi ci ragganciamo al lo Stato disastrato della ricerca in Italia sì grazie beh guardi sull'ultima domanda sull'ultima parte mi appello il quinto me la metto non è il caso vista l'aria di parlare del Vaticano che qua va però sulla su tutto il resto io credo che che sia così è vero è vero io sono entusiasta del successo che ha avuto Francesco Saviano con Gomorra perché è bello vedere che proprio che due libri siano riusciti a a toccare nel nel cuore delle persone e credo però che lì bisogna essere onesti sulla campania quando si fanno certi discorsi e cioè c'è un difetto enorme della classe dirigente campana e io penso che sinceramente dopo essere stato 14 anni al potere uno come Bassolino che è cresciuto dentro il PC che tutte le settimane faceva un titolo in prima pagina sulla responsabilità oggettiva del ministro degli interni o del ministro di questo su qualunque tema che andasse storto è oggettivamente responsabile oggettivamente responsabile oggettivamente responsabile beh voglio dire anche se sono d'accordo con lui che non cambierebbe nulla in questo momento le dimissioni lui le doveva dare secondo me detto questo è detto che c'è una responsabilità enorme della classe dirigente campana che si vede nel fatto che dove hanno fatto la raccolta differenziata la raccolta differenziata in qualche modo ha funzionato e in alcuni paesi l'entroterra ha funzionato anzi benissimo benissimo detto questo bisogna anche dire che occorre che i napoletani reagiscano in maniera diversa da quella appassionata di Raffaele Lacapria che io adoro e capisco il suo dolore e capisco anche del suo bisogno di difendere la napoletanità però se descrive la spazzatura de Sard che ci arriva nella seconda metà del Settecento scandalizzato ne parla scandalizzato Dickens ne parlano scandalizzati tutti quelli che sono passati per Napoli in questi secoli beh forse anche i napoletani devono come dire imparare a togliersi da sé alcuni difetti la classe dirigente se la sono scelta loro potevano scegliersi una classe dirigente diversa in qualche modo insomma è anche vero che ognuno è causa del suo male detto questo ripeto la responsabilità maggiore è chiaro che va attribuita alla classe dirigente perché a mercato San Severino quando decido di fare la colta differenziata ha funzionato benissimo e per anni sono andati avanti con stessa gente stessa provincia stesso tipo di popolazione di origine normanna stessa lingua stessa cultura eccetera eccetera 0,4% di raccolta differenziata Sarno 65% di raccolta differenziata a mercato San Severino a distanza di 15 chilometri con la stesso tipo di giunta di centrodestra per cui lì è chiaro che vedi che è una questione di gruppo dirigente tanto è vero che quando anche a Sarno si sono decisi a fare la raccolta differenziata cioè negli ultimi sei mesi in sei mesi sono già arrivati quasi al 60% di raccolta differenziata quindi è chiaro che la responsabilità della classe politica è determinante però credo che una presa di coscienza anche della cosiddetta società civile sia indispensabile io circa un'ora che sono qui e sono rimasto allibito sono rimasto allibito perché in tutto questo tempo non si è pronunciata la parola che forse è la causa di tutta la situazione sociopolitica in cui ci troviamo è la parola precariato qui stiamo parlando di giovani che non si battono giovani che non si battono faccio un piccolo esempio di una persona che conosco benissimo una persona mia amica a 25 anni si laurea a 27 anni diventa titolare di ruolo nella scuola nello stesso anno diventa dottorando a 30 anni dottore a 32 anni diventa professore a contratto sottolineo a contratto a 3.000 euro l'anno 60 ore fa le stesse identiche cose di un professore ordinario che prendeva quanto? 150.000 l'anno per soccorre dopo due anni questi 3.000 euro l'anno scompaiono perché il signor Mussi dice che non ci sono più soldi e bisogna toglierli a chi ha 3.000 euro l'anno quella persona questa mia carissima amica nel frattempo si è fatta una famiglia una figlia è tornata a fare l'insegnante a scuola ed è una persona fortunata perché ha le ferie pagate non è un esempio il 60% degli insegnanti dell'università di Bologna non di Camerino di Bologna la più antica università d'Europa forse del mondo dopo quella di Bagdad ha il 60% di precari l'università di Bologna ma di cosa stiamo parlando non ci volete chi comanda non vuole i giovani non ci sono concorsi non ci date i soldi ma di cosa stiamo parlando e mi devo sentire dire non ci battiamo cos'altro dobbiamo fare cos'altro dobbiamo fare nella migliore delle ipotesi quella carissima mia persona a 37 a 38 anni diventerà ricercatore quanto prenderà? 1.200 1.300 euro parliamo di cifre parliamo di soldi perché si tratta di quello quando i camionisti per un giorno e mezzo o due giorni hanno bloccato l'Italia hanno preso i soldi dalla ricerca non da altre parti dalla ricerca noi cosa possiamo bloccare? niente stiamo parlando di niente dovete darci le risorse e allora i giovani faranno tutto quello che dovrebbero fare come il resto del mondo in un contesto come questo 9 persone su 10 ti dicono hai ragione ed è la cosa più facile e invece io credo che tu abbia in parte ragione e in parte torto cioè nel contesto di oggi nel contesto attuale se vuoi lasciare il sistema così com'è hai totalmente ragione totalmente ragione però io credo che un moderno sindacato una moderna lotta per il lavoro una moderna sinistra debba cambiare obiettivi in una società per esempio ultra competitiva come quella del nord-est soprattutto in altri anni ma anche adesso a Vicenza non arrivi al 3% di disoccupazione cioè non lavora soltanto lavorano tutti non lavora solo chi non non vuole fare non vuole lavorare o non vuole fare alcune determinate cose c'è lavoro per tutti lì per esempio è fondamentale la tutela del mediocre non la tutela il posto di lavoro perché non lo perdi il posto di lavoro se sai fare il tuo lavoro non lo perdi e lì invece siccome non tutti possono essere bravi perché se io avessi dovuto campare facendo il chitarrista cosa che sarebbe stato anche il mio sogno sarei morto di fame e invece facendo il giornalista sto bene però voglio dire io avrei avuto il diritto costituzionale di essere un mediocre chitarrista e uno deve avere il diritto costituzionale di essere un mediocre tornitore un mediocre professore un mediocre medico non tutti possono essere bravi però questa cosa qua in contraddizione è con quello che diceva per esempio la ragazza di prima è con quello che dicevano altri qua dentro con i quali sono più d'accordo in questo contesto in cui uno giovane bravo non può non può prendere il posto del mediocre che è imbullonato alla sedia tu hai totalmente ragione ma in una società che cambia non è più così non può essere quello non ti poni non ti porresti questo problema se tu fossi in una società davvero aperta in cui c'è uno scambio continuo in cui c'è gente che va gente che viene gente che entra perché non è così in America nessuno ha il posto fisso vita natural durante ma in America se tu sei bravo e hai 27 anni e c'è il pirla che ne ha 46 ed è imbullonato alla sedia glielo prendi il posto allora c'è una contraddizione insanabile tra le due cose cioè tra il chiedere meritocrazia e il chiedere invece di come dire la stabilizzazione del precariato c'è una contraddizione insanabile e io credo che sia interesse di una società come la nostra perché purtroppo così va il pianeta il pianeta ha preso un'altra strada non c'è niente da fare non è che tu puoi andare in Cina a imporre il tuo problema non puoi andare in India a imporre il tuo sistema è così si è spalancato il mondo in questo modo devi fare i conti con questo allora io credo che sia più importante far saltare i lucchetti tutti i lucchetti d'Italia e consentire ai giovani di entrare per merito che non continuare a stabilizzare 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 perché non ne usciamo stabilizzando i precari non ne usciamo credo che sia molto meglio invece aprire la società permettendo ai giovani di fare irruzione questa è una mia opinione nel contesto in cui siamo comunque capisco il tuo discorso però e come te l'ho detto esatto stiamo dicendo la stessa roba ma ho appena detto che al Quirinale non si fa un concorso dal 63 ma guarda stiamo dicendo la stessa roba non vedo che cosa siamo in disaccordo ho detto che perfino in Quirinale non c'è un concorso dal 63 che è una vergogna e se non ci sono i concorsi certo che non saranno mai i ragazzi no 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 certo no no ma ci siamo capiti comunque buonasera due brevissime osservazioni proprio sul tema della fuga dei cervelli lei giustamente ha sottolineato e anche gli interventi finora avuti come appunto molti giovani in Italia dopo una formazione ad alto livello non trovano poi possibilità di impiego non trovano possibilità di inserimento credo però che bisognerebbe guardare il problema anche da un'ottica esterna cioè non solo dall'interno ci sono molti studenti che scelgono l'estero e per i quali l'estero non è appunto un'opzione l'unica opzione disponibile proprio su questo su questo fatto l'altro giorno su Repubblica Nadia Urbinati ha scritto un articolo molto interessante perché lei è docente italiana docente a New York professore ordinario e metteva proprio in luce come ci sia più che un problema di fuga di cervelli un problema di rientro cioè una simmetria tra la possibilità di essere assetati e formarsi perfezionarsi all'estero e poi possibilità di rientro e in Italia purtroppo noi abbiamo poche eccezioni però è un sistema dove purtroppo l'immobilità viene spesso premiata a rispetto del dinamismo ora il sistema dei concorsi dovrebbe sicuramente incentivare il contrario però credo che ci sia appunto un lunghissimo percorso ancora da fare volevo sapere cosa lei pensava di questo la seconda invece è proprio un commento se fosse possibile sulla dichiarazione che oggi Azio Mauro ha fatto commentando le dimissioni di Prodi ha parlato che questo gesto non rappresenta tanto la fine di una leadership agonizzante quanto piuttosto la fine di una cultura politica quella del centro sinistra quindi il tentativo di tenere insieme le due sinistre italiane radicale e riformista lei è dello stesso parere o crede che ci sia ancora basta capirci se per sinistra intendono quello che intende Di Liberto che pensa di essere lui la sinistra Giordano crede di essere lui la sinistra Bertinotti crede di essere lui la sinistra è assolutamente vero ma Ezio Mauro sa meglio di me e sicuramente non era in quel senso che lui lo scriveva sa meglio di me che uno come Giavazzi secondo me sotto molti aspetti è molto più di sinistra di certo conservatorismo che si autodefinisce di sinistra e che tiene una società bloccata paralizzata incapace di far fronte a una società complessa che corre in maniera diversa come corriamo noi io credo che Giavazzi sia di sinistra Marco Rizzo Di Liberto Bertinotti diranno che assolutamente no che è un servo dei padroni o almeno comunque insomma uno che sbaglia io credo che in questo senso la fine di quel genere di sinistra con una sinistra di un accordo fra quel tipo di sinistra e una sinistra moderata che secondo me molto spesso è più sinistra ancora di quell'altra in questo senso è assolutamente finito assolutamente finito perché insomma non è possibile non è possibile andare a ridiscutere ogni volta su tutto faccio un esempio per essere brutalmente chiaro può darsi che la Tavio in Val di Susa sia sbagliata può darsi può darsi può darsi che sia un errore farla ma dopo vent'anni dodici governi undici governi diversi di cui cinque di sinistra alcuni democristiani e due di destra ci mettiamo ancora a discutere un accordo internazionale ma non ne firmerai mai più uno falla se dopo è sbagliata ame ma falla perché un paese non può andare a ridiscutere ogni volta le stesse cose non può è una questione di serietà può darsi che sia sbagliata ma dopo vent'anni undici governi di cui cinque di sinistra non puoi andarla a ridiscutere ogni volta perché non è serio non è serio l'altra cosa che avevi chiesto invece ovvio mi trovo consenziente chiaro che mica si va all'estero solo per guadagnarsi il pane a guadagnarsi la birba come si chiamava una volta cioè il tozzo di pane quotidiano la brib non vai a guadagnarti il pane solo non vai fuori solo per la birba vai fuori per fare esperienza per conoscere altri mondi per aprirti il cervello per spalancarti quello che è preoccupante e tu hai toccato questo punto hai fatto benissimo è il fatto che poi quelli che hanno accumulato esperienza non tornano o quando tornano restano delusi sempre Rampini racconta che in Cina e in India stanno tornando un sacco di scienziati anzi in America sono preoccupatissimi perché un sacco di geni indiani e cinesi stanno tornando a casa perché non tornano da noi qualcuno ci ha provato a tornare è tornato per esempio Federico Faggin che è quello che ha inventato il microprocessore Federico Faggin che è vicentino mangia vicentino gli piace il bacalà guarda in televisione le partite di calcio le campioni che è italianissimo Federico ha provato a tornare e ci è rimasto due anni poi è tornato in America dicendo una cosa spaventosa cioè che il Veneto va bene per fare careghe e maioni cioè sedie e maglioni se tu continui a fare e ritorniamo al discorso che facevi tu prima se tu continui a fare careghe e maioni certo la Cina ti travolgerà non ci sono alternative la Cina ti travolge devi cambiare il sistema devi cambiare e produrre cose diverse devi giocartela su altri piani piccole considerazioni che mi sono venute in mente la prima è che il successo della casta e soprattutto di Gomorra per me significa un campanello interessante cioè la popolazione italiana è meno venduta è meno travolta di quello che si pensa solo che l'ufficialità dello Stato vive bene con con la con la Camorra con la mafia con l'andrangheta e così via eccola eccola certamente ora mi domando di fronte a un periodo buio come quello che ci si prospetta davanti un partito che volesse essere veramente nuovo non potrebbe impostare la futura campagna elettorale veramente su una spietata lotta a mafia Camorra e in andrangheta e tanto perdere si perde e allora perdiamo con una buona causa e magari si sorprende l'elettorato e ci ripensa e lì torniamo a uno dei temi che è venuto fuori anche che aveva sollevato la ragazza che viene intervenuta per prima cioè la possibilità o meno di fare politica cioè è stato creato un sistema in cui non hai più gli spazi per muoverti questa è la grande difficoltà e guardi la cosa più umiliante che è successa a quelli che la pensano come lei anch'io sono della sua idea meglio perdere in modo pulito che contrattare il voto con Cusumano magari assumendogli meglio perdere in modo pulito che cercare di salvarsi comprandosi 3-4 Cusumano però detto questo la grande umiliazione per uno adesso Salvatore Settis è calabrese quindi mi capisce meglio di chiunque altro ma io conosco per esempio benissimo ma anche la Sicilia c'è l'umiliazione l'umiliazione per quelli che pensano che sognano un'Italia pulita è più grave è stata avuta abbiamo avuto di Sicilia cioè Rita Borsellino ha vinto in una sola provincia su nove una e che provincia era Enna dove comanda Mirello Crisafulli cioè il più compromesso di tutti i leader di sinistra meridionali quello che fu intercettato in un albergo mentre diceva lui a un boss mafioso cosa doveva fare Rita Borsellino che era la portavoce dopo tanti anni della politica bella della politica cristallina della politica sana gioiosa ha vinto in un solo posto dove gli ha portato i voti Mirello Crisafulli terribile assolutamente terribile ieri mentre cadeva Prodi il sparo otteneva la fiducia dopo del treno cinque anni prima lo stesso che lo ha ferro e si si ho ancora tre domande e poi chiudiamo e credo di essere anche la cultura allora anche perché non vorrei svenire come Cusumano insomma no allora buonasera a tutti su una cosa penso siamo tutti d'accordo tranne forse il primo intervento che il sistema è imploso il sistema è serenato e siamo fermi e gli esempi sono molteplici e per dire per dirne qualcuno il direttore generale di un ASL lo nomina la politica e poi che politica cioè questo è scandaloso che in Sardegna per combattere la disoccupazione questo l'ho letto sul suo libro hanno fatto quattro province ogliastra l'anno 6 iglesiente su questo ci siamo che ormai la burocrazia serve addirittura a risolvere la disoccupazione che crea quindi è proprio qui c'è un cane che si morde la coda incredibile Bassolino la situazione di Napoli agli occhi di tutti Bassolino non si deve dimettere Bassolino deve pagare intanto 3 milioni e 200 mila euro allo Stato italiano è stato condannato dalla Corte dei Conti ha appellato la sentenza se sarà confermata dovrà pagare questi soldi e poi dovrà eventualmente essere inquisito dalla magistratura non si deve dimettere nessuno si deve dimettere poi ha fatto l'esempio di chiave e chiavestelli con cui tutti in Italia si legano le poltrone perché Bassolino è diverso da altri questo non lo capisco la magistratura dovrà fare il suo il suo corso e speriamo che lo faccia in maniera rapida quindi sul fatto del sistema non ci dilunghiamo nemmeno tanto perché gli esempi sono tanti è un paese diciamo così anziano non vecchio perché se no ci ammassano di botte perché sono di più come ha detto lei prima quindi su questo ci siamo non è competitivo non facciamo la TAV siamo i più inquinati del mondo perché abbiamo tutto il commercio su camion su questo non ne parliamo sì sì arrivo alla domanda arrivo alla conclusione il problema è un altro secondo me che qui forse è venuto fuori e non tanto il problema è questo sistema il sistema che corrompe anche le anime nel senso che ormai tutti cerchiamo di inserirci in questo sistema invece no questo sistema fa schifo va cambiato non bisogna venire a compromessi con questo sistema uno va a fare i quiz per entrare a medicina e studia prima e se no li faranno dopo e se no significa come ha detto lei che non è tagliato a fare il medico e non è un dramma anche perché a Vibo Valencia al famoso ospedale Iazzolino ci sono 152 crani quindi non abbiamo bisogno di medici noi in Italia noi ormai soprattutto i giovani questo è un problema di noi giovani non ho capito la domanda però scusi la domanda gliela do subito la domanda la domanda è questa il sistema fa schifo e va cambiato ci deve un po' aiutare la magistratura e noi ci dobbiamo indignare ci deve tornare la forza di indignarsi così non può andare avanti non può andare avanti allora io credo che l'ultimo punto sia quello fondamentale cioè non è vero che in Italia sia sempre andata così cioè che la gente non si indignasse e la prova è purtroppo in 11 suicidi 11 quando scoppiò Mani Pulite cioè se 11 persone si sono ammazzate vuol dire che non nel secolo scorso ma 15 anni fa c'era ancora una reazione nella società per cui se tutti quanti ti consideravano una persona schifosa tu ti sentivi una persona schifosa no? ora io non invoco il ritorno di un clima in cui le persone si ammazzano perché siamo tutti addolorati che si siano ammazzati Raul Gardini Gabriele Cagliari Moroni e tutti quanti gli altri però santo cielo e lì hai ragione tu totalmente un ripristino dell'assenzione morale è assolutamente indispensabile perché per anni ci è stato spiegato che tanto sono tutti là tanto tutti evadono tanto tutti pagano la finanza tanto tutti fanno i furbi e quindi nessuno ha il diritto di dare delle opinioni morali su un altro no nessuno ha il diritto di ora questa cosa qua grazie a Dio forse sta passando l'impressione mia è che non ci sia come ha detto ieri lo sventurato Cutrufo in al Senato che ha detto che è un'ondata di antipolitica anche Coso come si chiama Baccini ha detto l'antipolitica io credo che non ci sia un'ondata di antipolitica c'è un'ondata di indignazione io ho fatto un sacco di incontri con la gente in questi mesi ed era sempre strapieno di gente che stava due ore a parlare di politica no del grande fratello di politica la gente ha voglia di politica però diversa diversa e il ripriso di una sanzione morale è una cosa fondamentale perché nei paesi seri nei paesi seri il politico rotto il politico incapace il politico incoerente non lo fa fuori la magistratura lo fa fuori prima la sanzione morale eh Larry Craig che era quel senatore americano che ha fatto anni di campagne contro gli omosessuali chiamandoli traduco in italiano finocchi culattoni richioni froci che che eccetera l'hanno beccato a fare il piedino a un poliziotto in un cesso nel cesso di un aeroporto e lui ha chiuso con la politica ha chiuso non è che lui può tornare dal dai dai notabili del partito repubblicano e dirgli guarda io c'ho 2300 tessere no lui ha chiuso da noi invece voi siete sicuri che il signor Cosimo Mele che andava a Family Day e poi noleggiava le puttane per passarci le notti annusando cocaina abbia chiuso con la politica è ancora lì eh non si è mica dimesso eh e se lui è padrone di un po' di tessere potete scommettere che cercherà di giocarsene anche alle prossime elezioni e non è detto che non ce lo ritroviamo in Parlamento in questo senso chiudo credo che proprio il recupero il ripristino della sanzione morale sia il primo passo che noi dobbiamo fare assolutamente a partire da subito ancora due domande raccomando la brevità allora sarò breve volevo chiedere se non ritiene che si possa parlare di un'anomalia in Italia per il fatto che circa quanto ho letto di recente soltanto il 7% degli studenti alla fine di una scuola superiore si iscrive a facoltà scientifica allora io mi chiedo come si può pensare lo dico nel luogo deputato nella scuola normale che il nostro paese possa essere competitivo se alla fine di una scuola superiore soltanto il 7% meno del 10% si iscrive a facoltà scientifica c'è qualcosa evidentemente che non funziona nel sistema scuola nel sistema di insegnamento delle materie scientifiche e poi un'ultima cosa brevissima io volevo riallacciarmi all'aggettivo che lei ha adoperato qualche minuto fa diversa che è lo stesso aggettivo che lei adopera se non sbaglio nella dedica del libro La Casta lei lo dedica a delle persone sperando che lo so lo ho capito sperando che si appassionino ad una politica diversa diversa l'aggettivo che lei adopera dopo il punto io spererei anche che ci possa essere una politica diversa ma nonostante il grande successo del suo libro che mi auguro sia più che un diventi un long seller io sono molto molto scettico sulla capacità di incidere in maniera realistica sulla classe sociale italiana anche con un libro bellissimo come il suo che si legge con grandissima passione e interesse grazie intanto lo ringrazio no io credo che onestamente speravamo che cambiassero un po' i cose in più noi pensavamo che almeno voglio dire un convegno sull'abolizione delle province venisse fatto e invece proprio zero zero assoluto l'unica cosa che abbiamo visto è una un minimo un minimo di interessamento a ridurre le comunità montane almeno quelle di mare perché so quelle erano proprio talmente ridicole però anche quello poi una sola cosa una sola cosa sinceramente devo ammettere che è cambiata questo sì è cambiata la percezione dell'impunità cioè non hanno più l'idea di poterlo fare senza che nessuno dica niente e questa è una piccola grande svolta culturale cioè quando vogliono aumentarsi lo stipendio cioè hanno talmente paura che venga fuori uno scandalo che alla fine rientra sempre per esempio e l'unica cosa invece sostanziale che è cambiata e questo invece è molto interessante è che le 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 istituzioni massime della Repubblica finalmente dopo batti e ribatti mio e di Sergio Rizzo tutti i giorni prima col libro e poi sul Corriere hanno finalmente smesso di prendere come punto di riferimento il PIL nominale che è un trucco balordo da giocatori tre carte perché l'unico se tu prendi come punto di riferimento il PIL nominale voglio dire che è la somma fra l'inflazione programmata che è una cosa che c'è non c'è chissà se proprio si realizza e il PIL che ti aspetti tu quando ci stai sotto di mezzo punto fai comunque la tua bella figura però stai generalmente sopra il doppio dell'inflazione almeno quello è cambiato per quanto riguarda invece il discorso dei delle poche iscrizioni alle materie scientifiche beh intanto penso che lì in effetti non possiamo dimenticare che c'è una tradizione italiana che è più umanistica mica peraltro poi abbiamo anche una letteratura splendida e un'architettura e un pittore abbiamo tesori d'arte meravigliosi però lì credo che effettivamente ci sia e sono d'accordo con lei una mancanza della scuola italiana perché non è possibile che soltanto sette ragazzi su dieci si possono appassionare a una materia evidentemente viene insegnata a mare forse se prendessimo quei testi di singapore e quei testi cinesi e li traducessimo dall'inglese facendo insegnare la matematica come l'insegno dei cinesi magari cambia chissà l'ultima domanda cercherò di essere rapidissimo allora io quest'estate a cavallo tra luglio e agosto sono andato a Friburgo al congresso mondiale biennale di fisica atomica e molecolare cioè la cosa più grossa che c'era al mondo che c'è ogni due anni eccetera eccetera sono stati qualcosa come settecento partecipanti gli italiani erano in tre e vabbè qualcuno era andato a un congresso che era accaduto poco prima io non è che ci sono andato come eminente personaggio italiano sono bassa manovalanza della ricerca un segnista di ricerca però ci sono andato come mi interessava gli indiani erano qualche decina ora su quale base noi dovremmo ritenere che solamente sui tondini sui maglioni e su poche altre cose di bassa specializzazione noi saremmo battuti da questi altri popoli a mia impressione a occhio dovendo scommettere tra 50 anni saremo fortunati se ci confronteremo alla pari con gli indiani che sono di prima qualità con i cinesi molti cinesi che sono di prima qualità non è che ci corrono dietro solo sui maglioni e sulle valigie che già compriamo esclusivamente quelle cinesi ma ci stanno col fiatto sul collo anche su tutto il resto quindi non lo so non può essere un discorso un po' più veritiero dire sarà possibile magari uno sviluppo più giusto per tutta la società lasciando parte l'Africa poveretta che c'è i suoi problemi ma per tutta l'Asia in modo che noi spendiamo guadagniamo un pochetto meno ma comunque abbiamo una vita dignitosa che però tra 50 anni sarà come quella del cinese io guadagnerò come un cinese dignitosamente come dire invece che dire noi andiamo avanti con la tecnologia e riusciremo sempre a sfuggire il cattivo che tanto inizierà a fare quello che io facevo 20 anni fa non è mica scontato questo secondo me grazie è benissimo è complicato la cosa ma io dicevo solo che non puoi voglio dire che è perdente continuare a fare solo carreghe e maioni come dice Federico Faggino e mica dico che occorre fare soltanto so bene che dalla Cina all'India arrivano sfide che non sono soltanto le magliette a un euro noi abbiamo il problema di Malpensa adesso che se fosse in meridione sarebbe stata chiusa con ignominia perché è un aeroporto che sta lontano dalla città di riferimento fai una fatica improba ad arrivarci trovi il traffico bloccato una volta su due il trenino parte una volta all'ora una volta all'ora e il tassi costa 150 euro se fosse l'aeroporto di Napoli Malpensa sarebbe stato buttato giù bombardato perché aeroporto inutile essendo un aeroporto della Lombardia allora noi in quanto padani dovremmo difendere questa roba qui che è stata sbagliata però so bene voglio dire che loro invece a Shanghai hanno fatto un trenino che con tecnologie anche europee però noi siamo stati tagliati fuori a questo per esempio pur essendo stato il pendolino il primo treno veloce del mondo poi noi siamo rimasti indietro e gli altri sono andati avanti e adesso a Shanghai in otto minuti mi dicono leggo tu arrivi dall'aeroporto al centro di Shanghai con un treno che fa i 450 all'ora so bene che non perdi solo sui maglioncini e sulle e sulle carreghe però è proprio per quello che io credo che sono d'accordo con lei occorra assolutamente investire di più sulla scuola e sull'università già voglio dire sapere che sono soltanto tre gli italiani che vanno a seguire giornate come quelle che lei ha citato che vedono partecipazioni decine e decine di indiani è una cosa che insomma fa male al cuore insomma meno male vuol dire che c'è qualcuno come lei che ci va però io vi chiedo scura ma ho finito completamente la voce non ce la faccio più c'era Silvio Smagnago te lo ricordi c'era Silvio Smagnago e diceva quando voleva qualcuno più